il castello in mezzo a un fitto bosco un castello dava rifugio a quanti la notte aveva sorpreso in viaggio cavalieri e dame cortei reali e semplici viandanti passai per un ponte levatoio sconnesso smontai di sella in una corte buia stallieri silenziosi presero in consegna il mio cavallo ero senza fiato le gambe mi reggevano appena da quando ero entrato nel bosco tali erano state le prove che mi erano accorse gli incontri le apparizioni i duelli che non riuscivo a ridare un ordine né ai movimenti né ai pensieri salì una scalinata mi trovai in una sala alta e spaziosa molte persone certamente anche essi ospiti di passaggio che mi avevano preceduto per le vie della foresta sedevano a cena attorno a un desco illuminato da candelieri provai al guardarmi intorno una sensazione strana o meglio erano due distinte sensazioni che si confondevano nella mia mente un po fluttuante per la stanchezza e turbata mi pareva di trovarmi in una ricca corte quale non ci si poteva attendere in un castello così rustico e fuori mano e ciò non solo per gli arredi preziosi e i ceselli del vasellame ma per la calma e l'agio che regnava tra i commensali tutti belli di persona e vestiti con agghindata eleganza e nello stesso tempo avvertivo un senso di casualità e di disordine e se non addirittura di licenza come se non d'una magione signorile si trattasse ma d'una locanda di passo dove le persone tra loro sconosciute di diversa condizione e paese si trovano a convivere per una notte e nella cui promiscuità forzata ognuno sente allentarsi le regole a cui s'attiene nel proprio ambiente e come si rassegna ai modi di vita meno confortevoli così pure indulge a costumanze più libere diverse di fatto le due impressioni contrastanti potevano ben riferirsi a un unico oggetto sia che il castello da molti anni visitato solo come luogo di tappa si fosse a poco a poco degradato a locanda e i castellani si fossero visti regalare a rango d'oste o dio stessa pur sempre reiterando i gesti della loro ospitalità gentilizia sia che una taverna come spesso se ne vedono nei pressi dei castelli per dar da bere a soldati e cavallanti avesse invaso essendo il castello da tempo abbandonato le antiche sale signorini per installarvi le sue panche e i suoi barili e il fasto di quegli ambienti e insieme il va e vieni di illustri avventori le avesse conferito un'imprevista dignità tale da riempire di grilli la testa dell'osta e dello stessa che avevano finito per credersi i sovrani di una corte sfarzosa questi pensieri a dire il vero non mi occuparono che per un istante più forte era il sollievo a ritrovarmi sano e salvo in mezzo a un'eletta compagnia e l'impazienza ad intrecciare conversazione a un cenno d'invito di colui che sembrava il castellano o l'oste mero seduto all'unico posto rimasto libero e scambiare con i compagni di viaggio e resoconti delle avventure trascorse ma a questa mensa a differenza di ciò che sempre avviene nelle locande eppure nelle corti nessuno proferiva parola quando uno degli ospiti voleva chiedere al vicino che gli passasse il sale o lo zenzero lo faceva con un gesto e ugualmente con gesti si rivolgeva ai servi perché gli trinciassero una fetta di timballo di faggiano o gli versassero mezza pinta di vino deciso a rompere quel che credevo un torpore delle lingue dopo le fatiche del viaggio feci per sbottare in un'esclamazione clamorosa come buon pro alla buon ora qual buon vento ma dalla mia bocca non uscì alcun suono il tambureggiare dei cucchiai e la ciottolio di coppe e stoviglie bastavano a convincermi che non ero diventato sordo non mi restava che supporre d'essere muto me lo confermarono i commensali muovendo anch'essi le labbra in silenzio con aria graziosamente rassegnata era chiaro che la traversata del bosco era costata a ciascuno di noi la perdita della favella terminata la cena in un mutismo che i rumori della masticazione e gli schiocchi del sorbire il vino non rendevano più affabile restammo seduti a guardarci in viso con l'assillo di non poterci scambiare le molte esperienze che ognuno di noi aveva da comunicare a quel punto sulla tavola appena sparecchiata colui che pareva essere il castellano posò un mazzo di carte da gioco erano tarocchi più grandi di quelli con cui si gioca in partita o con cui le zingare predicono l'avvenire e vi si potevano riconoscere a un di presso le medesime figure dipinte con gli smalti delle più preziose miniature re regine cavalieri e fanti erano giovani vestiti con sfarzo come per una festa principesca i 22 arcani maggiori parevano a razzi d'un teatro di corte e coppe denari spade e bastoni splendevano come impresse araldiche ornate da cartigli e fregi prendemmo a spargere le carte sul tavolo scoperte come per imparare a riconoscerle e dare loro il giusto valore nei giochi o il vero significato nella lettura del destino eppure non sembrava che alcuno di noi avesse voglia di iniziare una partita e tanto meno di mettersi a interrogare l'avvenire dato che d'ogni avvenire sembravamo svuotati sospesi in un viaggio né terminato né da terminare era qualcos'altro che vedevamo in quei tarocchi qualcosa che non ci lasciava più staccare gli occhi dalle tessere dorate di quel mosaico uno dei commensali tirò a sé le carte sparse lasciando sgombra una larga parte del tavolo ma non le radunò in mazzo né le mescolò prese una carta e la posò davanti a sé tutti notammo la somiglianza tra il suo viso e quello della figura e ci parve di capire che con quella carta egli voleva dire io e che s'accingeva a raccontare la sua storia storia dell'ingrato punito presentandosi a noi con la figura del cavaliere di coppe un giovane roseo e biondo che sfoggiava un mantello raggiante di ricami a forma di sole e offriva con la mano protesa un dono come quelli dei re magi il nostro commensale voleva probabilmente informarci della sua condizione facoltosa della sua inclinazione al lusso e alla prodigalità eppure col mostrarsi a cavallo d'un suo spirito d'avventura sia pur mosso giudicai io osservando tutti quei ricami fin sulla gualdrappa del destriero più dal desiderio di apparire che da una vera vocazione cavalleresca il bel giovane fece un gesto come per richiedere tutta la nostra attenzione e cominciò il suo muto racconto disponendo tre carte in fila sul tavolo il re di denari il dieci di denari e il nove di bastoni l'espressione luttuosa con cui aveva deposto la prima di queste tre carte e quella gioiosa con cui mostrò la carta seguente parevano volerci far comprendere che suo padre essendo venuto a morte il re di denari rappresentava un personaggio leggermente più anziano degli altri e dall'aspetto posato e prospero egli era entrato in possesso di una cospicua eredità e subito sarà messo in viaggio quest'ultima proposizione la deducemmo dal movimento del braccio nel buttare la carta del nove di bastoni la quale con l'intrico di rami protesi su una rada vegetazione di foglie e fiorellini selvatici ci ricordava il bosco che avevamo or poco attraversato anzi a chi scrutasse la carta con occhio più acuto il segmento verticale che incrocia gli altri legni obliqui suggeriva appunto l'idea della strada che penetra nel folto della foresta dunque l'inizio della storia poteva essere questo il cavaliere appena seppe da avere i mezzi per brillare nelle corti più sfarzose si affrettò a mettersi in cammino con una borsa colma di monete d'oro per visitare i più famosi castelli dei dintorni forse col proposito di conquistarsi una sposa d'alto rango e accarezzando questi sogni sereno il trato nel bosco a queste carte in fila se ne aggiunse una che annunciava certamente un brutto incontro la forza nel nostro marzo di tarocchi questo arcano era rappresentato da un energumeno armato sulle cui malvagie intenzioni non lasciavano dubbi l'espressione brutale la clava mulinata in aria e la violenza con cui stendeva al suolo un leone con un colpo secco come si fa con i conigli il racconto era chiaro nel cuore del bosco il cavaliere era stato sorpreso dall'agguato di un feroce brigante le più tristi previsioni furono confermate dalla carta che venne poi cioè l'arcano dodicesimo detto il penduto dove si contempla un uomo in brache e camicia legato a testa in basso appeso per un piede riconoscemmo nell'appeso il nostro giovane biondo il brigante l'aveva spogliato d'ogni avere e lasciato a pensolare da un ramo a testa in giù respirammo di sollievo la notizia che ci recò l'arcano la temperanza posato sul tavolo del nostro commensale con espressione di riconoscenza da esso apprendemmo che l'uomo pensoloni aveva sentito un passo avvicinarsi e il suo occhio capovolto aveva visto una fanciulla forse figlia di un boscaiolo o di un capraio che avanzava nudi i polpacci per i prati reggendo due brocche d'acqua certo di ritorno dalla fonte non dubitammo che l'uomo a testa in giù venisse liberato e soccorso e restituito alla sua posizione naturale da quella semplice figlia dei boschi quando vedemmo calare il lasso di coppe su cui era disegnata una fonte che scorre fra muschi fioriti e frulli d'ali fu come se sentissimo il vicino il fiottare ed una sorgente e lanzare dell'uomo che si dissetava bocconi ma ci sono fonti qualcuno tra noi certo pensò che appena se ne beve accrescono la sete anziché placarla era prevedibile che tra i due giovani s'accendesse appena il cavaliere avesse superato il suo capogiro un sentimento che andava al di là della gratitudine da una parte e della pietà dall'altra e che questo sentimento trovasse subito modo di esprimersi complice l'ombra del bosco in un abbraccio sull'erba dei prati non per nulla la carta che venne dopo fu un due di coppe ornato dal cartiglio amor mio e fiorito di non ti scordar di me indizio più che probabile di un incontro amoroso già ci disponevamo soprattutto le dame della compagnia a goderci il seguito di una tenera vicenda amorosa quando il cavaliere posò un'altra carta di bostoni un sette dove tra gli scuri tronchi della foresta parve di vedere allontanarsi la sua ombra sottile non c'era da illudersi che le cose fossero andate altrimenti l'idillio boschivo era stato breve povera giovane il fiore colto sul prato e lasciato cadere l'ingrato cavaliere nemmeno si volta indietro a dirle addio a questo punto era chiaro che cominciava una seconda parte della storia forse con un intervallo di tempo in mezzo il narratore aveva infatti cominciato a disporre altri tarocchi in una nuova fila affiancata alla prima sulla sinistra e posò due carte l'imperatrice e l'otto di coppe l'improvviso cambiamento di scena ci lasciò sconcertati per un momento ma la soluzione non tardò a imporsi credo a tutti noi ed era che il cavaliere avesse finalmente trovato ciò che andava cercando una sposa d'alto e dovizioso lignaggio quale quella che vedevamo lì effigiata una testa coronata addirittura col suo scudo di famiglia e la sua faccia insipita è anche un po più vecchia di lui come notarono certamente i più maligni tra noi e un vestito tutto ricamato da anelli intrecciati come a dire sposami sposami invito prontamente raccolto se è vero che la carta di coppe suggeriva un banchetto di nozze con due file di convitati che brindavano ai due sposi in fondo al tavolo della tovaglia inghirlandata la carta che fu posata poi il cavaliere di spade annunciava comparendo in tenuta di guerra un imprevisto o un messaggero a cavallo aveva fatto irruzione nella festa portando una notizia inquietante o lo sposo in persona aveva abbandonato il banchetto di nozze per accorrere armato nel bosco a un misterioso richiamo o forse le due cose insieme lo sposo era stato avvertito di un'apparizione imprevista e subito aveva imbracciato le armi ed era saltato in sella fatto esperto della passata avventura egli non metteva il naso fuori di casa se non armato di tutto punto attendevamo impazienti un'altra carta più esplicativa e venne il sole il pittore aveva rappresentato l'astro del giorno nelle mani di un bambino che corre anzi vola sopra un bario e spazioso paesaggio l'interpretazione di questo passo del racconto non era facile poteva voler dire semplicemente era una bella giornata di sole e in questo caso il nostro narratore sprecava le sue carte per riferirci particolari in essenziali forse più che sul significato allegorico della figura conveniva soffermarsi su quello letterale un bambino seminudo era stato visto correre nelle vicinanze del castello dove si celebravano le nozze ed era per inseguire quel monello che lo sposo aveva disertato il banchetto ma non andava trascurato l'oggetto che il bambino trasportava quella testa raggiante poteva contenere la soluzione dell'enigma tornando a posare lo sguardo sulla carta con cui il nostro eroe se rappresentato ripensammo ai disegni o ai ricami solari che egli portava sul mantello quando era stato attaccato dal brigante forse quel mantello che il cavaliere aveva dimenticato nel prato dei suoi fugaci amori lo si vedeva ora sventolare per la campagna come un aquilone ed era per recuperarlo che egli si era lanciato all'inseguimento del monello oppure per la curiosità di scoprire come mai era finito là cioè quale legame intercorreva tra il mantello il bambino e la giovane del bosco questi interrogativi speravamo ci fossero chiariti dalla carta seguente e quando vedemmo che essa era la giustizia ci convincemmo che in quest'arcano il quale non mostrava soltanto come nei comuni mazzi di tarocchi una donna con la spada e la bilancia ma anche sullo sfondo oppure a secondo di come si guardava su di una lunetta sovrastante la figura principale un guerriero a cavallo o una mazzone in armatura che muove all'assalto era racchiuso uno dei capitoli più fitti d'avvenimenti della nostra storia non ci restava che azzardare delle congetture per esempio mentre stava per raggiungere il monello con l'aquilone l'inseguitore si era visto sbarrare il passo da un altro cavaliere armato di tutto punto cosa potevano essersi detti tanto per cominciare chi va là e il cavaliere sconosciuto si era scoperto il viso un viso di donna nel quale il nostro commensale aveva riconosciuto la sua salvatrice del bosco fatta più piena e risoluta e calma con un melanconico sorriso appena accennato sulle labbra che mai cerchi da me egli doveva averle allora chiesto giustizia aveva detto l'amazzone la bilancia appunto alludeva questa risposta anzi a pensarci bene l'incontro poteva essere avvenuto così un'amazzone a cavallo era uscita dal bosco alla carica figura sullo sfondo o lunetta e gli aveva gridato alto là sai chi sta inseguendo chi mai tuo figlio aveva detto la guerriera scoprendosi il volto figura in primo piano che posso fare doveva aver domandato il nostro preso da un rapido e tardivo rimorso affrontare il giudizio di dio difenditi e aveva brandito la spada ora ci racconterà il duello pensai e di fatti la carta buttata giù in quel momento fu lo sferragliante due di spade volavano tagliuzzate le foglie del bosco e le piante rampicanti si attorcigliavano alle larne ma lo sguardo sconfortato che il narratore rivolgeva questa carta non lasciava dubbi sull'esito la sua avversaria si rivelava una spadaccina agguerrita toccava a lui adesso giacere sanguinante in mezzo al prato rinviene apri gli occhi e cosa vede era la mimica un po enfatica a dire il vero del narratore che ci invitava ad attendere la carta seguente come una rivelazione la papessa misteriosa figura monacale incoronata era stato soccorso da una monaca gli occhi con cui fissava la carta erano pieni di raccapriccio una strega egli levava le mani supplichevoli in un gesto di terrore sacrale la gran sacerdotessa ad un culto segreto e sanguinario sappi che nella persona della fanciulla tu hai offeso cos'altro poteva avergli detto la papessa per provocare in lui quella smorfia di terrore tu hai offeso ci bele la dea a cui è sacro questo bosco ora sei caduto in nostra mano e cosa poteva aver risposto lui se non un semplice balbettio espierò propizierò mercè ora il bosco ti avrà il bosco è perdita di sé mescolanza per unirti a noi devi perderti strappare gli attributi di te stesso smembrarti trasformarti nell'indifferenziato unirti allo stuolo delle menadi che corre urlando nel bosco no era il grido che vedemmo uscire dalla sua gola mutolita ma già l'ultima carta completava il racconto ed era lotto di spade le lame taglienti delle scarmigliate seguaci di cibele s'avventavano addosso a lui straziandolo storia dell'alchimista che vendette l'anima la commozione di questo racconto non si era ancora dissipata quando un altro dei commensali diede segno di voler dire la sua un passaggio soprattutto della storia del cavaliere pareva aver attratto la sua attenzione o meglio uno degli affiancamenti casuali tra le carte delle due file quello dell'asso di coppe e della papessa per indicare che egli si sentiva concernere personalmente da quell'accostamento avanzò all'altezza di quelle due carte sulla destra la figura del re di coppe che poteva passare per un suo ritratto molto giovanile e in verità esageratamente losinghiero e sulla sinistra continuando una fila orizzontale un otto di bastoni la prima interpretazione di questa sequenza che veniva alla mente insistendo nell'attribuire alla fontana un'aura voluttuosa era che il nostro commensale avesse avuto un rapporto amoroso con una monaca in un bosco oppure che le avesse offerto copiosamente da bere dato che la fontana pareva prendere origine a guardarla bene da un bariletto in cima a un torchio da uva ma la fissità melanconica del viso dell'uomo sembrava assorta in speculazioni da cui non solo le passioni carnali ma pure i più venali piaceri della mensa e della cantina dovevano essere esclusi altre meditazioni dovevano essere le sue per quanto l'aspetto tuttavia mondano della sua figura non lasciava dubbi che esse fossero rivolte alla terra e non al cielo e così cadeva un'altra interpretazione possibile fare della fonte un'acqua santiera l'ipotesi più probabile che mi occorse e come a me credo anche ad altri silenziosi spettatori era che quella carta rappresentasse la fonte della vita il punto supremo della ricerca dell'alchimista e che il nostro commensale fosse appunto uno di quei sapienti che scrutando in alambicchie serpentine in matracci e storte in atanorri e aludel sul tipo della complicata ampolla che la sua figura in vesti regali reggeva in mano tentano di strappare alla natura i suoi segreti particolarmente quello della trasformazione dei metalli era da credere che fin dalla più giovane età questo era il senso del ritratto con fattezze da adolescente che pur poteva nello stesso tempo alludere all'elisir di lunga vita egli non aveva avuto altra passione la fonte restava pur sempre un simbolo amoroso che la manipolazione degli elementi e per anni aveva atteso di vedere il giallo re del mondo minerale separarsi dagli anticoli di zolfo e di mercurio precipitare lentamente in depositi opachi che ogni volta risultavano essere soltanto vile limatura di piombo fondigli d'uva pergola verdastra e in questa ricerca aveva finito per chiedere il consiglio e l'aiuto di donne che si incontrano talora nei boschi esperte in filtri e intrugli magici dedicate alle arti della stregoneria e della divinazione del futuro come quella che con superstiziosa reverenza egli indicava come la papessa la carta che venne poi l'imperatore poteva riferirsi appunto a una profezia della strega del bosco tu diventerai l'uomo più potente del mondo non c'era da meravigliarsi che il nostro alchimista si fosse montato la testa e avesse aspettato di giorno in giorno un cambiamento straordinario nel corso della sua vita questo evento doveva essere segnato nella carta seguente e fu l'enigmatico arcano numero uno detto il bagatto in cui c'è chi riconosce un ciarlatano o mago intento ai suoi esercizi dunque il nostro eroe alzando gli occhi dal suo tavolo si era visto un mago seduto di fronte a lui che manipolava i suoi alambicchi e le sue storte chi siete che fate qui guarda che cosa faccio aveva detto il mago indicandogli una boccia di vetro su un fornello lo sguardo abbagliato con cui il nostro commensale buttò lì un set di denari non lasciava dubbi su ciò che egli aveva visto lo splendore di tutte le miniere d'oriente spalancate davanti a lui tu puoi darmi il segreto dell'oro doveva aver chiesto al ciarlatano la carta seguente era un due di denari segno di scambio veniva da pensare di una compravendita un baratto te lo vendo doveva aver ribattuto il visitatore sconosciuto cosa vuoi in cambio la risposta che tutti prevedevamo era l'anima ma non ne fummo sicuri fino a che il narratore non ebbe scoperto la nuova carta ed in un giorno un momento prima di farlo cominciando a disporre un'altra fila in senso contrario e questa carta era il diavolo cioè egli aveva riconosciuto nel ciarlatano il vecchio principe d'ogni mescolanze ambiguità così come noi ora riconoscevamo nel nostro commensale il dottor faust l'anima aveva dunque risposto mefistofele un concetto che non può rappresentarsi altrimenti che con la figura di psiche giovinetta che rischiara col suo lume le tenebre come si contempla nell'arcano la stella il 5 di coppe che ci fu mostrato poi poteva leggersi tanto come il segreto alchimistico che il diavolo rilevava faust quanto come un brindisi per concludere il patto oppure come le campane che con loro rintocchi mettevano in fuga il visitatore infernale ma potevamo pure intenderlo come un discorso sull'anima e sul corpo come vaso dell'anima una coppa delle 5 era dipinta di traverso come fosse vuota anima poteva aver risposto il nostro faust e se io l'anima non l'avessi ma forse non era per un'anima individuale che si scomodava mefistofele con loro costruirai una città diceva faust e l'anima dell'intera città che io voglio in cambio affare fatto e il diavolo allora poteva ben scomparire con un soggino che pareva un nullulato vecchio abitatore dei campanili avvezzo a contemplare appollaiato su un pluviale le distese dei tetti sapeva che le città hanno anime più corpose e durature di quelle di tutti gli abitanti messe insieme ora restava da interpretare la ruota della fortuna una delle immagini più complicate di tutto il gioco dei tarocchi poteva voler dire semplicemente che la fortuna si era girata dalla parte di faust ma questa pareva una spiegazione troppo ovvia per il modo di raccontare dell'alchimista sempre littico e allusivo era invece legittimo supporre che il nostro dottore impossessatosi del segreto diabolico avesse concepito un progetto smisurato trasformare in oro tutto il trasformabile la ruota dell'arcano decimo rappresenterebbe allora letteralmente gli ingranaggi all'opera del gran mulino dell'oro il meccanismo gigantesco che avrebbe innalzato la metropoli tutta quanta di metallo prezioso e le figure umane di varia età che si vedevano spingere la ruota o ruotare con essa erano lì a indicare le folle di uomini che accorrevano a dare una mano al progetto e dedicavano gli anni delle loro vite a far girare quegli ingranaggi giorno e notte questa interpretazione non rendeva conto di tutti i particolari della miniatura per esempio le orecchie e code bestiali che ornavano alcuni degli esseri umani rotanti ma costituiva una base per leggere le successive carte di coppe e di denari come il regno dell'abbondanza in cui nuotavano gli abitanti della città dell'oro i circoli gialli in fila forse evocavano cupole splendenti di grattacieli d'oro che fiancheggiavano le vie della metropoli ma il prezzo pattuito quando sarebbe stato riscosso dal bifido contraente le due carte finali della storia erano già sul tavolo disposte dal primo narratore il due di spade e la temperanza alle porte della città dell'oro guardie armate sbarravano il passo a chiunque volesse entrare per impedire l'accesso all'esattore pie forcuto sotto qualsiasi aspetto si presentasse e anche se si avvicinava una semplice fanciulla come quella dell'ultima carta le guardie intimavano l'alto là inutilmente chiudete le vostre porte questa era la risposta che ci si poteva attendere dalla portatrice d'acqua io mi guardo bene dall'entrare in una città che è tutta di metallo compatto noi abitatori del fluido visitiamo solo gli elementi che scorrono e si mescolano era una ninfa acquatica era una regina degli elfi dell'aria un angelo del fuoco liquido al centro della terra nella ruota della fortuna a ben guardare le metamorfosi bestiali forse erano solo un primo passo di una regressione dell'umano al vegetale al minerale hai paura che le nostre anime caschino nelle mani del diavolo avrebbero chiesto quelli della città no che non abbiate anima da dargli storia della sposa dannata non so quanti di noi fossero riusciti a decifrare in qualche modo la storia senza perdersi in mezzo a tutte queste cartacce di coppe e di denari che saltavano fuori proprio quando più desideravamo una chiara illustrazione dei fatti la comunicativa del narratore era scarsa forse perché il suo ingegno era più portato al rigore dell'astrazione che all'evidenza delle immagini insomma alcuni di noi si distraevano o si soffermavano su certi accostamenti di carte e non riuscivano più ad andare avanti per esempio uno di noi un guerriero dallo sguardo melanconico aveva preso ad armeggiare con un fante di spade che gli somigliava molto e con un sei di bastoni e li aveva avvicinati al sette di denari e alla stella come volesse tirar su una fila verticale per conto suo forse per lui soldato smarritosi nel bosco quelle carte seguite dalla stella volevano dire un luccichio come di fuochi fatui che l'avevano attratto in una radura tra gli alberi dove gli era apparsa una giovinetta di sidereo pallore che s'aggirava nella notte in camicia e coi capelli sciolti levando alto un cero acceso comunque fosse egli continuò in perterrito la sua fila verticale posò due carte di spade un sette e una regina accostamento in sé difficile da interpretare ma che forse richiedeva qualche battuta di dialogo sul tipo nobile cavaliere ti supplico spogliati dalle tue armi e della tua corazza e lascia che io le indossi nella miniatura la regina di spade indossa un'armatura completa di bracciali cubitiere manopole che sporge come una ferrea sottoveste dall'orlo ricamato dalle candide maniche di seta stordita mi promisi a qualcuno dal cui abbraccio ora abborro e che stanotte verrà a pretendere l'adempimento della mia parola sento che sopraggiunge armata non potrà ghirmirmi dè salva una fanciulla perseguitata che il guerriero avesse acconsentito prontamente non c'era da dubitarlo indossata l'armatura ecco la meschinella trasformarsi in una regina da torneo pavoneggiarsi fare la gatta un sorriso di gioia sensuale accese il pallore del suo viso anche qui ora cominciava una sfilza di cartacce in cui raccapezzarsi era un problema un due di bastoni il segnale d'un bivio d'una scelta un otto di denari un tesoro nascosto un sei di coppe un convito amoroso la tua cortesia merita un guiderdone doveva aver detto la donna del bosco scegli il premio che preferisci io posso darti la ricchezza oppure oppure posso darmi a te la mano del guerriero bussò sulla carta di coppe aveva scelto l'amore per il seguito del racconto dovevamo lavorare d'immaginazione lui era già nudo lei slacciò l'armatura appena indossata e di tra le piastre di bronzo il nostro eroe raggiunse una mammella tonda e tesa e tenera si insinuò tra il ferreo cosciale e la tiepida coscia era di carattere riservato e pudico il soldato e non si dilungò in particolari tutto quel che seppe dirci fu affiancare alla carta di coppe una carta dorata di denari con un'aria sospirosa come esclamando mi sembrò d'entrare in paradiso la figura che egli depose dopo confermava l'immagine delle soglie del paradiso ma nello stesso tempo interrompeva bruscamente l'abbandono voluttuoso era un papa dall'austera barba bianca come il primo dei pontefici ora custode della porta del cielo chi parla di paradiso alto sul bosco in mezzo al cielo era apparso san pietro in trono tuonando per costei la nostra porta è chiusa in sempiterno il modo con cui il narratore depose una nuova carta con un gesto rapido mantenendola nascosta e facendosi dell'altra mano schermo agli occhi ci preparava una rivelazione quella che gli si era presentata quando abbassando lo sguardo dalla minacciosa soglia celeste l'aveva riportato sulla dama tra le cui braccia egli giaceva e aveva visto la gorgera incorniciare non più il viso da colomba in amore non più le fossette maliziose il piccolo naso all'insù ma una barriera di denti senza gengive nel labbra due narici scavate nell'osso i gialli zicomi d'un teschio e aveva sentito mescolate alle sue membra stecchite d'un cadavere la ghiacciante apparizione dell'arcano numero 13 la dicitura la morte non figura neppure nei mazzi di carte in cui tutti gli arcani maggiori portano scritto il loro nome aveva rinfocolato in tutti noi l'impazienza di conoscere il resto della storia il 10 di spade che veniva adesso era la barriera degli arcangeli che vietava l'accesso al cielo dell'anima dannata il 5 di bastoni annunciava un passo attraverso il bosco a quel punto la colonna di carte si riallacciava al diavolo già apposato in quel punto dal narratore precedente non avevo da astrologare molto per comprendere che dal bosco era uscito il fidanzato tanto demuto della promessa sposa defunta belzebù in persona che esclamando hai finito bella mia di cambiare le carte in tavola per me non valgono due soldi due di denari tutte le tue armi e armature quattro di spade se l'era portata giù dritto sotto terra storia d'un ladro di sepolcri il sudore freddo non s'era ancora asciugato sulla mia schiena e già dovevo tenere dietro un altro commensale cui il quadrato morte papa otto di denari due di bastoni sembrava risvegliare altri ricordi a giudicare da come lui ci girava intorno con lo sguardo mettendo la testa di traverso quasi non sapesse da che parte entrarci quando costui posò al margine il fante di denari figura nella quale era facile riconoscere il suo piglio di provocatoria spavalderia compresi che anche lui voleva raccontare qualcosa cominciando da lì e che si trattava della storia sua ma che cosa aveva da spartire questo scanzonato giovanotto col macabro regno degli scheletri evocato dall'arcano numero 13 non era certo il tipo da passeggiare meditando per i cimiteri a meno che non vi fosse attratto da qualche proposito ribaldo per esempio quello di forzare le tombe e derubare i morti dagli oggetti preziosi che sconsideratamente essi si fossero portati con sé nell'ultimo viaggio sono di solito i grandi della terra a venire sepolti insieme agli attributi del loro comando corone d'oro anelli scettri vesti di lamine splendenti se questo giovane era davvero un ladro di tombe egli doveva andare cercando nei cimiteri sepolcri più illustri per esempio la tomba d'un papa dato che i pontefici scendono nel sepolcro in tutto lo splendore dei loro arredi il ladro in una notte senza luna doveva aver sollevato il pesante coperchio della tomba facendo leva su due bastoni e sera calato nel sepolcro e dopo il narratore posò un asso di bastoni e fece un gesto ascendente come qualcosa che crescesse per un momento dubitai di aver sbagliato tutta la mia congettura tanto quel gesto pareva in contraddizione con l'immergersi del ladro nella tomba papale a meno di supporre che dal sepolcro appena scoperchiato fosse spuntato un tronco d'albero dritto e altissimo e che il ladro vi si fosse arrampicato oppure si fosse sentito trasportare su su in cima all'albero tra i rami nella fronzuta chioma della pianta per fortuna costui sarà stato uno scampaforche ma almeno nel raccontare non si limitava ad aggiungere un tarocco all'altro procedeva a coppie di carte affiancate in una doppia fila orizzontale da sinistra a destra ma si aiutava con una gesticolazione ben dosata semplificando un poco il nostro compito così riuscì a capire che con il dieci di coppe voleva intendere la vista dall'alto del cimitero come lui lo contemplava d'incima alla pianta con tutti gli avbelli lineati sui loro piedistalli lungo i viali mentre con l'arcano detto l'angelo o il giudizio in cui gli angeli attorno al trono celeste suonano la diana che fa scoperchiare le tombe voleva forse solo sottolineare il fatto che lui guardava le tombe dall'alto come gli abitanti del cielo del gran giorno sulla cima dell'albero arrampicandosi come un monello il nostro giunse a una città sospesa così io credetti di interpretare il maggiore degli arcani il mondo che in questo mazzo di tarocchi raffigura una città galleggiante su onde o nuvole e sollevata da due putti alati era una città i cui tetti toccavano la volta del cielo come già la torre di babele quando ce la mostrò lì di seguito un altro arcano chi scende nell'abisso della morte e risale l'albero della vita con queste parole immaginavo fosse accolto l'involontario pellegrino arriva nella città del possibile da cui si contempla il tutto e si decidono le scelte qui la mimica del narratore non ci aiutava più e occorreva lavorare di congetture ci si poteva immaginare che entrato nella città del tutto e delle parti il nostro ribaldo si fosse sentito apostrofare vuoi la ricchezza denari o la forza spade oppure la saggezza coppe scegli subito era un arcangelo ferro e radioso cavaliere di spade che gli rivolgeva questa domanda e il nostro rapido scelgo la ricchezza denari gridò avrai bastoni era stata la risposta dell'arcangelo a cavallo mentre la città e l'albero si dissolvevano in fumo e il ladrone precipitava in un rovinio di rami spezzati il mezzo al bosco storia dell'orlando pazzo per amore adesso i tarocchi disposti sul tavolo formavano un quadrato tutto chiuso intorno con una finestra ancora vuota al centro su di essa si chinò un commensale che era stato finora come assorto lo sguardo bagante era costui un gigantesco guerriero sollevava le braccia come fossero di piombo e voltava lento il capo come se il peso dei pensieri gli avesse incrinato la cervice era certamente un profondo sconforto a gravare su questo capitano che doveva essere stato non molto tempo prima un micidiale fulmine di guerra la figura del re di spade che tentava di rendere in un unico ritratto il suo passato bellicoso e il melanconico presente fu da lui avvicinata al margine sinistro del quadrato all'altezza del 10 di spade e subito i nostri occhi furono come accecati dal polverone delle battaglie udimmo il suono delle trombe già le lance volavano in pezzi già i musi dei cavalli scontrandosi confondevano le schiume iridescenti già le spade un po di taglio un po di piatto battevano un po sul taglio un po sul piatto d'altre spade e dove un cerchio di nemici vivi saltava sulle selle e a ridiscendere non trovava più i cavalli ma la tomba la al centro di questo cerchio era orlando paladino che mulinava la sua durlindana l'avevamo riconosciuto era lui che ci raccontava la sua storia tutta a strazzi e strappi premendo il pesante dito di ferro su ciascuna carta ora indicava la regina di spade nella figura di questa donna bionda che in mezzo alle lame affilate e alle piastre di ferro affaccia l'inafferrabile sorriso di un gioco sensuale noi riconoscemmo angelica la maga venuta dal catai per la rovina delle armate franche e fummo certi che il conte orlando ne era ancora innamorato dopo di lei s'apriva il vuoto orlando vi posò una carta il dieci di bastoni vedemmo la foresta schiudersi malvolentieri all'avanzare del campione gli aghi degli abeti farsi irti come aculi districe le querce gonfiare il torace muscoloso dei loro tronchi i faggi svellere le radici dal suolo per contrastargli il passo tutto il bosco pareva dirgli non andare perché diserti metallici campi di guerra regno del discontinuo e del distinto le congeniali carneficine in cui eccelle il tuo talento nello scomporre nell'escludere e t'avventuri nella verde mucillaginosa natura tra le spire delle continuità vivente il bosco dell'amore orlando non è luogo per te stai inseguendo un nemico dalla cui insidie non c'è scudo che ti protegga dimenticati d'angelica ritorna ma era certo che orlando non prestava orecchio a questi ammonimenti e una sola visione l'occupava quella rappresentata dall'arcano numero 7 che egli ora posava sul tavolo cioè il carro l'artista che aveva miniato con splendidi smalti questi nostri tarocchi alla guida del carro aveva messo non un re come di solito si vede nelle carte più dozzinali ma una donna dall'abito di maga o sovrana orientale che reggeva le briglie di due bianchi cavalli alati era così che la fantasia farneticante d'orlando si figurava l'incedere fatato d'angelica nel bosco era un'impronta di zoccoli volanti che egli inseguiva più leggeri che zampe di farfalla era uno spolverio d'oro sulle foglie come lasciano cadere certe farfalle la traccia che gli serviva da guida nell'intrico misero lui non sapeva ancora che nel più folto del folto una stretta d'amore morbida estruggente univa intanto angelica e medoro ci volle l'arcano dell'amore per rivelarglielo con il languore di desiderio che il nostro minatore aveva saputo dare allo sguardo dei due innamorati cominciamo a capire che con le sue mani di ferro e la sua aria trasognata orlando s'era tenuto per sé fin dal principio i tarocchi più belli del mazzo lasciando gli altri a balbettare le loro vicissitudini a suon di coppe e bastoni e ori e spade la verità si fece largo nella mente d'orlando nell'umido fondo del bosco femminile c'è un tempio di eros dove contano altri valori da quelli che decide la sua durlindana il favorito di angelica non era uno degli illustri comandanti di squadrone ma un giovine ottino del seguito snello e civettuolo come una fanciulla la sua figura ingrandita apparve nella carta seguente il fante di bastoni dove erano fuggiti gli amanti da qualsiasi parte fossero andati troppo tenue sfuggente era la sostanza di cui erano fatti per dar presa alle manacce di ferro del paladino quando non ebbe più dubbi sulla fine delle sue speranze orlando fece qualche movimento disordinato sguainare la spada puntar di sproni tender la gamba nella staffa poi qualcosa si ruppe dentro di lui saltò si fulminò si fuse e tutta un tratto gli si spense il lume dell'intelletto e restò al buio adesso il ponte di carte tracciato attraverso il quadrato toccava il lato opposto all'altezza del sole un amorino fuggiva al volo portando via il lume della saggezza ad orlando e si librava sulla terra di francia contesa dagli infedeli sul mare che gale e saracene avrebbero solcato impunemente ormai che il robusto campione della cristianità giaceva ottenebrato dalla demenza la forza chiudeva la fila io chiusi gli occhi non mi reggeva il petto alla vista di quel fiore della cavalleria trasformato in una cieca esplosione tellurica pari a un ciclone o un terremoto come un tempo le schiere maomettane falciate dalla lurlindana così ora il vorticare della sua clava batteva le bestie feroci che dall'africa nel marasma delle invasioni erano passate sulle coste di provenza e catalogna un manto di pellicce di felino fulve screziate immaculate avrebbero ricoperto i campi divenuti deserto dove lui passava né il cauto leone né la tigre longilinea né il retrattile leopardo sarebbero sopravvissuti al massacro poi sarebbe toccato all'ionfante all'otorino ceronte e al cavallo del fiume ossia ipopotamo uno strato di pelle di pachiderma stava per rispessirsi sulla callosa arida europa il dito ferreamente puntiglioso del narratore andò a capo cioè prese a compitare la riga di sotto cominciando dalla sinistra vidi e sentì lo schianto dei tronchi di quercia sradicati dall'ossesso del cinque di bastoni rimpizzarsi l'osso della lurlindana rimasta appesa a un albero e dimenticata nel sette di spade deplorai lo spreco di energie e di beni del cinque di denari aggiunto per l'occasione nello spazio vuoto la carta che egli ora deponeva là in mezzo era la luna un freddo riverbero brilla sulla terra buia una ninfa dall'aspetto demente alza la mano verso la dorata falce celeste come se suonasse l'arpa vero è che la corda pende rotta al suo arco la luna è un pianeta sconfitto la terra conquistatrice e prigioniera della luna orlando percorre una terra ormai lunare la carta del matto che ci fu mostrata subito dopo era più che mai eloquente al proposito sfogato ormai il più grosso groppo di furore con la clava sulla spalla come una lenza magro come un teschio stracciato senza braghe con la testa piena di penne nei capelli gli restava attaccata roba di ogni genere piume di tordo ricci di castagna spinni di pungitopo e grattaculo lombrighi che succhiavano le spente cervella funghi muschi galle sepali ecco che orlando era disceso giù nel cuore caotico delle cose al centro del quadrato dei tarocchi e del mondo al punto di intersezione di tutti gli ordini possibili la sua ragione il tre di coppe ci ricordò che era in un'ampolla custodita nella valle delle ragioni perdute ma poiché la carta rappresentava un calice rovesciato tra due calici dritti era probabile che nemmeno in quel deposito ci fosse conservata le ultime due carte della fila erano lì sul tavolo la prima era la giustizia che già avevamo incontrato sormontata dal fregio del guerriero al galoppo segno che i cavalieri dell'armata di carlo magno seguivano le piste del loro campione vegliavano su di lui non rinunciavano a riportare la sua spada al servizio di ragione e giustizia era dunque l'immagine della ragione quella bionda giustiziera con spada e bilancia con cui lui doveva in ogni caso finire per fare i conti era la ragione del racconto che cova sotto il caso combinatorio dei tarocchi sparpagliati voleva dire che comunque giri poi viene il momento che lo acchiappano e lo legano orlando e gli ricacciano in gola l'intelletto rifiutato nell'ultima carta si contempla il paladino legato a testa in giù come l'appeso e finalmente ecco il suo viso diventato sereno e luminoso l'occhio limpido come neppure nell'esercizio delle sue ragioni passate cosa dice dice lasciatemi così ho fatto tutto il giro e ho capito il mondo si legge al contrario tutto è chiaro storia di astolfo sulla luna sul senno di orlando mi sarebbe piaciuto raccogliere le testimonianze soprattutto da colui che del recupero si era fatto un dovere una prova per il suo ardire ingegnoso avrei voluto che fosse lì con noi astolfo tra i commensali che ancora non avevano raccontato nulla c'era un tipo leggero come un fantino un folletto che ogni tanto saltava su inguizzi e intrilli come se il mutismo suo e nostro fosse per lui un'occasione di divertimento senza pari osservandolo ma corsi che poteva ben essere lui il cavaliere inglese e lo invitai esplicitamente a raccontare porgendogli la figura del mazzo che più mi pareva somigliargli l'ilare impennata del cavaliere di bastoni quel tipetto sorridente avanzò una mano ma invece di prendere la carta la fece volare con uno scatto dell'indice sul pollice ondeggiò come una foglia al vento e si posò sul tavolo verso la base del quadrato ora non c'erano più finestre aperte nel centro del mosaico e poche carte restavano fuori dal gioco il cavaliere inglese prese un asso di spade riconobbi la durlindana d'orlando rimasta inoperosa appesa a un albero l'avvicinò al punto in cui era l'imperatore raffigurato con la barba bianca e la fiorita saggezza di carlo magno in trono come accigendosi a risalire con la sua storia una colonna verticale asso di spade imperatore nove di coppe prolungandosi l'assenza d'orlando dal campo franco astolfo fu chiamato dal re carlo e invitato a sedere a banchetto con lui poi venivano il matto mezzo straccione e mezzo ignudo con le penne sul capo e l'amore dio alato che dal pilistallo tortile d'ardeggia gli spasimanti tu certo astolfo sai che il principe dei nostri paladini orlando nostro nipote ha perso il lume che distingue l'uomo e le bestie savie dalle bestie dagli uomini matti e adesso corre ossesso i boschi ecco sparso di penne d'uccelli risponde solo al pigolio dei volatili come se altro linguaggio non intendesse e manco male se a ridurlo in questo stato fosse un malinteso zelo nelle penitenze cristiane nella umiliazione di sé macerazione del corpo e castico all'orgoglio della mente perché in tal caso il danno potrebbe in qualche modo essere bilanciato da un vantaggio spirituale o comunque sarebbe un fatto cui potremmo non dico mantarcene ma parlare in giro senza vergogna magari scrollando solo un po il capo ma il guaio è che alla pazzia lo ha spinto eros dio pagano che più è represso più devasta la colonna continuava con il mondo dove si vede una città fortificata con un cerchio intorno parigi nella cerchia dei suoi baluardi stretta da mesi nell'assedio saraceno e con la torre che rappresentava con veri simiglianza il precipitare dei cadaveri giù dagli spalti tra getti d'olio rovente e macchine d'assedio all'opera e così descriveva la situazione militare forse con le stesse parole di carlo magno il nemico prede ai piedi delle alture di monte martire di montparnasso apre brecce a menil montante e a monteroglio appicca incendi alla porta delfina e alla porta dei lillà cui non mancava che un'ultima carta il nove di spade per chiudersi su una nota di speranza così come il discorso dell'imperatore non poteva avere altra conclusione che questa solo nostro nipote potrebbe guidarci in una sortita che tagli il cerchio di ferro e di fuoco va a stolfo rintraccia il senno di orlando dovunque si sia perduto e riportalo è la sola nostra salvezza corri vola cosa doveva fare a stolfo aveva in una mano ancora una buona carta l'arcano detto l'eremita qui rappresentato come un vecchio gobbo con la clessidra in mano un indovino che rovescia il tempo irreversibile prima del prima vede il dopo e dunque a questo sapiente o mago merlino che a stolfo si rivolge per sapere dove ritrovare la ragione orlando l'eremita leggeva lo scorrere dei grani di sabbia nella clessidra e così noi ci accingevamo a leggere la seconda colonna della storia che era quella immediatamente a sinistra dall'alto in basso il giudizio dieci di coppe carro luna è in cielo che tu devi salire a stolfo l'arcano angelico del giudizio indicava un'ascensione sovrumana su nei campi pallidi della luna dove uno sterminato deposito conserva dentro un po' le messe in fila come nella carta di coppe le storiche che gli uomini non vivono i pensieri che bussano una volta alla soglia della coscienza e svaniscono per sempre le particelle del possibile scartate nel gioco delle combinazioni le soluzioni a cui si potrebbe arrivare e non si arriva per salire sulla luna l'arcano il carro ce ne dava superfluo ma poetica notizia è convenzione ricorrere alle ibride razze dei cavalli alati o pegasi o ipogrifi le fate li allevano nelle loro stalle dorate per aggiogarli a bighe e a trighe a stolfo il suo ipogrifo l'aveva e montò in sella prese il largo nel cielo la luna crescente gli venne incontro planò nel tarocco la luna era dipinta con più dolcezza di come le notti di mezza estate rustici attori la rappresentino nel dramma di piramo e tisbe ma con mezzi altrettanto semplici d'allegoria poi veniva la ruota della fortuna giusto al punto in cui ci aspettavamo una descrizione più particolareggiata del mondo della luna che ci lasciasse sbizzarrire nelle vecchie fantasie di un mondo all'incontrario dove l'asino è re l'uomo è quatrupede i fanciulli governano gli anziani le sonnambule reggono in timone i cittadini vorticano come scoiattoli nel mulinello della gabbia e quanti altri paradossi l'immaginazione può scomporre e ricomporre a stolfo era salito a cercare la ragione nel mondo del gratuito cavaliere del gratuito egli stesso quale saggezza trarre per norma dalla terra da questa luna del delirio dei poeti il cavaliere provò a porre la domanda al primo abitante che contro sulla luna il personaggio ritratto nell'arcano numero uno il bagatto nome immagine di significato controverso ma che qui pure può intendersi dal calamaio che tiene in mano come se scrivesse un poeta sui bianchi campi della luna a stolfo incontra il poeta intento a interpolare nel suo ordito le rime delle ottave la fila degli intrecci le ragioni e le sragioni se costui abita nel bel mezzo della luna o ne è abitato come dal suo nucleo più profondo ci dirà se è vero che essa contiene il rimario universale delle parole delle cose se essa è il mondo pieno di senso l'opposto della terra insensata no la luna è un deserto questa era la risposta del poeta giudicare dall'ultima carta ascesa sul tavolo la calva circonferenza del lasso di denari da questa sfera arida parte ogni discorso e ogni poema e ogni viaggio attraverso foreste battaglie tesori banchetti alcove ci riporta qui al centro di un orizzonte vuoto tutte le altre storie il quadrato era ormai interamente ricoperto di tarocchi e di racconti le carte del mazzo sono tutte spiattellate sul tavolo e la mia storia non c'è non riesco a riconoscerla in mezzo alle altre tanto fitto è stato il loro intrecciarsi simultaneo infatti il compito di decifrare le storie una per una ma fatto trascurare finora la peculiarità più saliente del nostro modo di narrare e cioè che ogni racconto corre incontro a un altro racconto e mentre un commensale avanza la sua striscia un altro dell'altro estremo avanza in senso opposto perché le storie raccontate da sinistra a destra o dal basso in alto possono pure essere lette da destra a sinistra o dall'alto in basso e viceversa tenendo conto che le stesse carte presentandosi in un diverso ordine spesso cambiano significato e il medesimo tarocco serve nello stesso tempo a narratori che partono da quattro punti cardinali così mentre a stolfo cominciava a riferire la sua avventura una delle più belle dame della compagnia presentatasi col profilo da donna amorosa della regina di denari già disponeva al punto d'arrivo della di lui strada l'eremita e il nove di spade che le servivano perché la sua storia cominciava proprio così con lei che si rivolgeva a un indovino per sapere quale fine avrebbe avuto la guerra che da anni la teneva assediata in una città lei straniera e il giudizio e la torre le portavano la notizia che gli dèi avevano da tempo decretato la catuta di troia e infatti quella città fortificata e assediata il mondo che nel racconto da stolfo era parigi concupita dai mori era vista come troia da coste che della lunga guerra doveva essere stata la prima causa dunque i banchetti risonanti di canti e strimpellio di cetre dieci di coppe erano quelli che gli achei preparavano per il giorno sospirato della espugnazione nello stesso tempo però un'altra regina quella soccorrevole di coppe avanzava in una storia d'incontro alla storia d'orlando sul suo stesso percorso cominciando dalla forza e dal penduto cioè questa regina contemplava un feroce brigante come tale almeno glielo avevano descritto appeso a uno strumento di tortura sotto il sole per verdetto della giustizia ne ebbe pietà s'abbicinò gli porse da bere tre di coppe si accorse che era un giovane agile e gentile fante di bastoni gli arcani carro amore luna matto che già pure servivano al sogno d'angelica alla folia d'orlando al viaggio dell'ippogrifo ora venivano disputati tra la profezia dell'indovino a elena di troia entrerà coi vincitori una donna su un carro una regina o una dea e il tuo paride cadrà innamorato di lei che spingeva la belle adultera sposa di menelao a fuggire al lume della luna dalla città assediata celata sotto umili vesti accompagnata solo dal buffone di corte è la storia raccontata simultaneamente dell'altra regina di come innamoratasi del prigioniero lo liberava a nottetempo invitandolo a fuggire camuffato da vagabondo e ad attendere che lei lo raggiungesse sul suo carro regale nell'oscurità del bosco le due storie poi continuavano ognuna verso il suo sbocco elena raggiungendolo limpo ruota della fortuna e presentandosi al banchetto coppe degli dèi l'altra attendendo in vano nel bosco bastoni l'uomo da lei liberato fino ai primi chiarori dorati denari del mattino e mentre luna concludeva rivolgendosi al sommo zeus l'imperatore di al poeta il bagatto che qui in olimpo non più cieco siede tra gli immortali e allinea i versi fuori del tempo nei poemi temporali che altri poeti canteranno che questa sola elemosina asso di denari io chiedo alla volontà dei celesti asso di spade questo scriva nel poema del mio destino prima che pari della tradisca elena si darà a ulisse nel ventre stesso del cavallo di troia cavaliere di bastoni l'altra non aveva sorte nemmeno incerta sentendosi apostrofare da una splendida guerriera regina di spade che le veniva incontro alla testa di un esercito regina della notte l'uomo da te liberato e mio preparati a combattere la guerra con le armate del giorno non finisce tra gli alberi del bosco prima dell'aurora nello stesso tempo bisognava tenere presente che la parigi o troia assediata nella carta il mondo che era anche città celeste nella storia del ladro di tombe diventava una città sotterranea nella storia d'un tale che si era presentato con le solide conviviali fattezze del re di bastoni e che vera arrivato dopo che in un bosco magico si era munito d'un randello dai poteri straordinari e aveva seguito uno sconosciuto guerriero dalle armi nere che gli vantava le sue ricchezze bastoni cavaliere di spade e denari in un alterco d'osteria coppe il misterioso compagno di viaggio aveva deciso di giocarsi lo scettro della città asso di bastoni la lotta abbastonate essendo stata favorevole al nostro eccoti padrone gli disse lo sconosciuto della città della morte sappi che hai vinto il principe della discontinuità e tolta la maschera aveva rivelato il suo vero volto la morte cioè un teschio giallo e camuso chiusa la città della morte nessuno poteva più morire cominciò una nuova età dell'oro gli uomini scialacquavano in bagordi incrociavano le spade in innoco e zuffe si buttavano indenni giù dalle torri denari coppe spade torre e le tombe abitate dai vivi in tripudio il giudizio erano quelle dei cimiteri ormai inutili dove i gaudenti si riunivano per le loro orge sotto lo sguardo esterefatto degli angeli e di dio tanto che un monito non tardò a risuonare riapri le porte della morte o il mondo diverrà un deserto irto di stecchi una montagna di freddo metallo e il nostro eroe si inginocchiò ai piedi dell'adirato pontefice in segno di obbedienza 4 di bastoni 8 di denari il papa quel papa ero io sembrò esclamare un altro convitato che si presentava sotto le mentite spoglie del cavaliere di denari e che gettando con disdegno il 4 di denari forse voleva significare che egli aveva abbandonato i fasti della corte papale per portare l'estremo viatico ai moribondi sul campo di battaglia la morte seguita dal 10 di spade rappresentava allora la distesa dei corpi squartati in mezzo ai quali s'aggirava il pontefice sbigottito all'inizio di una storia raccontata minuziosamente dagli stessi tarocchi che già avevano segnato gli amori di un guerriero ed un cadavere ma letti secondo un altro codice per cui la successione bastoni diavolo due di denari spade presupponeva che il papa tentato dal dubbio della vista del massacro fosse stato udito chiedersi perché permetti questo dio perché lasci che tante tue anime si perdano e che dal bosco una voce avesse ribattuto siamo in due a dividerci il mondo due di denari e le anime non sta a lui solo di permettere o di non permettere deve pur sempre fare i conti con me il fante di spade al termine della striscia precisava che a questa voce aveva fatto seguito l'apparizione di un guerriero dall'aria sprezzante riconosci me il principe delle opposizioni e io farò regnare la pace nel mondo coppe inizierò una nuova età dell'oro da gran tempo questo segno ricorda che l'altro è stato vinto dall'uno poteva aver detto il papa opponendogli il due di bastoni incrociati oppure quella carta indicava un bivio due sono le strade scegli aveva detto il nemico ma in mezzo al crocicchio era apparsa la regina di spade già maga angelica o bell'anima dannata o condottiera ad annunciare fermatevi la vostra contesa non ha senso sappiate che io sono la gioiosa dè della distruzione che governa il disfarsi e rifarsi in interrotto del mondo nel massacro generale le carte si mescolano di continuo e le anime non hanno sorte migliore dei corpi i quali almeno godono il riposo della tomba una guerra senza fine agita l'universo fino alle stelle del firmamento e non risparmia gli spiriti negli atomi nel pulviscolo dorato sospeso nell'aria quando il buio di una stanza è penetrato da raggi di luce lucrezio contemplava battaglie di corpuscoli impalpabili invasioni assalti giostre vortici spade stella ori spade certamente anche la mia storia è contenuta in questo intreccio di carte passato presente futuro ma io non so più distinguerla dalle altre la foresta il castello i tarocchi mi hanno portato a questo traguardo a perdere la mia storia a confonderla nel pulviscolo delle storie a liberarmene quello che rimane di me è solo l'ostinazione maniaca a completare a chiudere a far tornare i conti ancora mi manca di ripercorrere due lati del quadrato in senso opposto e io vado avanti solo per puntiglio per non lasciare le cose a mezzo il castellano locandiere che ci ospita non può tardare a dir la sua facciamo conto che sia il fante di coppe e che un insolito avventore il diavolo si sia presentato alla sua locanda a castello con certi ospiti e buona norma non offrire mai da bere gratis ma richiesto di pagare oste nella tua taverna tutto si mescola i vini ed i destini aveva detto l'avventore vost signoria non è contento del mio vino contentissimo il solo che sappia apprezzare tutto ciò che intersecato e bifronte sono io perciò ben più di due di denari voglio darti a questo punto la stella arcano numero 17 rappresentava non più psiche né la sposa uscita dalla tomba né un astro del firmamento ma solo la fantesca mandata riscuotra il conto che tornava con le mani sfavillanti di monete mai viste e gridava sapeste quel signore cosa ha fatto ha rovesciato una delle coppe sul tavolo e ne ha fatto cascar giù un fiume di denari che incantesimo è questo aveva esclamato il taverniere castellano l'avventore era già sulla soglia in mezzo alle tue coppe adesso c'è una che pare uguale alle altre invece è magica fa di questo dono un uso che possa piacermi altrimenti come mai conosciuto d'amico così tornerò a incontrarti da nemico disse e sparì pensa e ripensa il castellano aveva deciso di traversirsi da giocoliere e andare nella capitale per conquistare il potere sciorinando monete sonanti dunque il bagatto che avevamo visto come un mefistofele un poeta era anche l'oste ciarlatano che sognava di diventare imperatore con i giochi di bussolotti delle sue coppe e la ruota non più mulino d'oro né olimpo né mondo della luna rappresentava la sua intenzione di capovolgere il mondo si mise in strada ma nel bosco a questo punto occorreva interpretare nuovamente l'arcano della papessa come una gran sacerdotessa che nel bosco celebrava un tripudio rituale e aveva detto al viandante restituisci alle baccanti la coppa sacra che ci fu rubata e così si spiegava anche la fanciulla scalza e rorata di vino detta nei tarocchi la temperanza e l'elaborata fattura del calice altare che teneva il posto d'asso di coppe nello stesso tempo anche la donna corpulenta che ci serviva da bere come solerte o stessa o premurosa castellana aveva cominciato un suo racconto con le tre carte regina di bastoni otto di spade papessa e noi eravamo portati a vedere la papessa anche come badessa ad un convento cui la nostra narratrice allora tenera educanda aveva detto per vincere il terrore che l'approssimarsi della guerra regnava tra le monache lasciate che io sfidi a duello due di spade il condottiero degli invasori era questa educanda infatti una provetta spadaccina come la giustizia di nuovo ci rivelava e all'aurora sul campo di battaglia la sua maestosa persona fece una così sfolgorante apparizione il sole che il principe sfidato a duello cavaliere di spade se ne innamorò il banchetto coppe di nozze fu celebrato nella reggia dei genitori dello sposo imperatrice eredi denari i cui volti esprimevano tutta la loro diffidenza verso quella nuora smisurata appena lo sposo dovette ripartire allontanarsi del cavaliere di coppe i crudeli suoceri pagarono denari uno scherano che conducesse nel bosco bastoni la sposa e la uccidesse ecco allora che l'energumeno la forza e l'appeso si rivelavano essere la stessa persona lo scherano che s'avventava contro la nostra leonessa e si ritrovava poco dopo legato a testa in giù da quella robusta lottatrice sfuggita all'agguato l'eroina si era celata sotto i panni di una ostessa o ancella di castello come noi la vedevamo ora tanto in persona quanto nell'arcano della temperanza mescere un purissimo vino quale i motivi bacchici dell'asso di coppe garantivano eccola ora apparecchiare una tavola per due attendere il ritorno dello sposo e spiare ogni muovere di fronda di quel bosco ogni tirar di carte in questo mazzo di tarocchi ogni colpo di scena in questo incastro di racconti finché non si arriva alla fine del gioco allora le sue mani sparpagliano le carte mescolano il mazzo ricominciano da capo la taverna dei destini incrociati la taverna veniamo fuori dal buio no entriamo fuori c'è buio qui si vede qualcosa in mezzo al fumo la luce è fumosa forse di candele però si vedono i colori dei gialli dei blu sul bianco sulla tavola macchie colorate rosse anche verdi nei contorni neri disegni su rettangoli bianchi sparpagliati sul tavolo c'è dei bastoni rami fitti tronchi foglie come fuori prima delle spade che ci danno addosso colpi taglienti di mezzo alle foglie le imboscate nel buio dove c'eravamo perduti per fortuna alla fine abbiamo visto una luce una porta c'è degli ori che brillano delle coppe questa tavolata con bicchieri e piatti scodelle di zuppa fumante boccali di vino siamo in salvo ma ancora mezzo morti dallo spavento possiamo raccontarla ne avremmo da raccontare ognuno vorrebbe raccontare agli altri cosa gli è successo a lui cosa gli è toccato di vedere con i suoi occhi nel buio nel silenzio qui adesso c'è rumore come farò a farmi sentire la mia voce non la sento non mi esce la voce dalla gola non ho voce non sento nemmeno la voce degli altri si sentono i rumori non sono mica sordo sento acciottolare le scodelle stappare i fiaschi tambureggiare coi cucchiai masticare ruttare faccio dei gesti per dire che ho perduto la parola anche gli altri stanno facendo gli stessi gesti sono muti abbiamo perso la parola tutti nel bosco tutti quanti siamo intorno a questa tavola uomini e donne ben vestiti o mal vestiti spaventati anzi spaventosi a vedersi tutti con i capelli bianchi giovani e vecchi anch'io mi specchio in uno di questi specchi di queste carte ho i capelli bianchi anch'io dallo spavento come faccio a raccontare adesso che ho perduto la parola le parole forse pure la memoria come faccio a ricordare cosa c'era lì fuori e una volta ricordato come faccio a trovare le parole per dirlo e le parole come faccio a pronunciarle stiamo tutti cercando di far capire qualcosa agli altri a gesti a smorfie tutti come scimmie meno male ci sono queste carte qua sul tavolo un mazzo di tarocchi di quelli più comuni marsigliesi come li chiamano detti anche bergamaschi oppure napoletani piemontesi chiamateli come volete se non sono gli stessi si assomigliano nelle osterie dei paesi nel grembiule delle zingare disegni a linee marcate grossolane però con dettagli che non ci si aspetterebbe che non si capiscono neanche tanto bene come se quello che li intagliava questi disegni nel legno per stamparli li avesse ricalcati con le sue grosse mani da dei modelli complicati lavorati di fino con chissà quanta roba studiata a regola d'arte e lui ci avesse dato dentro con la sua sgorbia come viene senza neanche star lì a capire cosa stava copiando e poi avesse spalmato i legni con i suoi inchiostri e via ci mettiamo le mani sopra tutti insieme sulle carte qualcuna delle figure messe in fila con le altre figure mi riporta nella memoria la storia che mi ha portato qui cerco di riconoscere cosa mi è successo e dimostrarlo agli altri che intanto sono lì e che cercano nelle carte pure loro e mi mostrano col dito una figura o l'altra e niente va bene con niente e ci strappiamo le carte di mano e le sparpagliamo per il tavolo storia dell'indeciso uno di noi gira una carta la tira su la guarda come se si guardasse in uno specchietto è vero il cavaliere di coppe pare proprio tutto lui non è solo nella faccia ansiosa occhi sgranati coi capelli lunghi che gli scendono sulle spalle diventati bianchi che si nota una somiglianza ma anche nelle mani che lui muove sul tavolo come non sapesse dove metterle e che nella figura eccole lì che reggono la destra una coppa troppo grossa in equilibrio su un palmo e la sinistra le briglie appena con la punta delle dita anche al cavallo si comunica quest'atteggiamento traballante si direbbe che non riesca appoggiare forte gli zoccoli sul terreno smosso trovata quella carta al giovane in tutte le altre carte che gli vengono sotto mano sembra di riconoscere un senso speciale e le va mettendo in fila sul tavolo come se seguisse un filo dall'una all'altra la tristezza che gli si legge in faccia mentre mette giù insieme a un otto di coppe a un dieci di bastoni l'arcano che secondo i posti chiamano dell'amore o dell'amoroso o degli amanti fa pensare a una pena di cuore che l'abbia spinto a levarsi da un accaldato banchetto e a prendere aria nel bosco o addirittura disertare la festa delle proprie nozze e farsi uccell di bosco il giorno stesso del proprio matrimonio forse ci sono due donne nella sua vita e lui non sa scegliere così appunto lo rappresenta il disegno ancora biondo in mezzo alle due rivali una che la chiappa per una spalla fissandolo con occhio voglioso l'altra che gli striscia addosso con un languido movimento di tutta la persona mentre lui non sa da che parte rigirarsi ogni volta che sta per decidere quale delle due gli conviene come sposa si convince che può benissimo rinunciare all'altra e così si rassegna a perdere questa ogni volta che si accorge di preferire quella l'unico punto fermo in questo va e viene di pensieri è che può fare a meno sia dell'una che dell'altra perché ogni scelta ha un rovescio cioè una rinuncia e così non c'è differenza tra l'atto di scegliere e l'atto di rinunciare da questo vicolo cieco poteva liberarlo solo un viaggio il tarocco che ora il giovane mette sul tavolo sarà il certo il carro i due cavalli tirano il pomposo veicolo per le vie accidentate del bosco a briglia lenta come è sua abitudine di lasciarli andare di modo che quando si arriva a un bivio non tocchi a lui la scelta il due di bastoni segnala l'incrocio di due strade i cavalli prendono a tirare uno di qua e uno di là le ruote sono disegnate tanto divergenti che sembrano perpendicolari alla strada segno che il carro sta fermo oppure se si muove tanto varrebbe che restasse fermo come succede a molti davanti ai quali s'aprono gli snodi delle strade più lisce e più veloci che trasvolano le valli su pilastri altissimi e trapassano il granito delle montagne e sono liberi da andare dappertutto e dappertutto è sempre uguale così lo vedevamo lì stampato nella posa falsamente decisa e padrona di sé di un trionfante conduttore di veicoli ma si portava sempre dietro il suo animo diviso come le due maschere dallo sguardo divergente che aveva sul mantello per decidere che strada prendere non c'è che rimettersi alla sorte il fante di denari rappresenta il giovane mentre butta in aria una moneta testa o croce forse nell'una nell'altra la moneta rotola rotola e resta dritta in un cespuglio ai piedi di una vecchia quercia giusto in mezzo alle due strade con l'asso di bastoni il giovane vuole certo raccontarci che non sapendo decidere se proseguire da una parte o dall'altra non gli è rimasta altra via che scendere dal carro e arrampicarsi su per il tronco nodoso per i rami che con le successive biforcazioni continuano a imporgli il tormento della scelta almeno spera che tirandosi su da un ramo all'altro potrà vedere più lontano capire dove portano le strade ma il fogliame sotto di lui è fitto la vista del terreno è presto perduta e se lui alza lo sguardo verso la cima dell'albero lo abbaglia il sole con raggi puggenti che fanno brillare di tutti i colori le foglie contro luce però bisognerebbe anche spiegare cosa rappresentano quei due bambini che si vedono nel tarocco vorrà dire che guardando in su il giovane si è accorto di non essere solo sull'albero due monelli l'hanno preceduto arrappicandosi per i rami sembrano due gemelli uguali identici scalzi biondi biondi forse a quel punto il giovane ha parlato ha chiesto cosa fate qui voi due oppure quanto manca la vetta e i gemelli gli hanno risposto indicando con un confuso gesticolare qualcosa che si vede all'orizzonte del disegno sotto i raggi del sole le mura di una città ma dove sono situate rispetto all'albero queste mura l'asso di coppe rappresenta appunto una città con tante torri e guglie e minareti e cupole che sporgono fuori dalle mura e anche foglie di palmizi ali di faggiani pinne di pesci luna azzurri che certo spuntano dai giardini dalle voliere dagli acquari della città in mezzo ai quali possiamo immaginare i due monelli che si rincorrono e scompaiono e questa città sembra in equilibrio in cima a una piramide che potrebbe anche essere la vetta del grande albero cioè si tratterebbe di una città sospesa sui rami più alti come un nido d'uccelli con le fondamenta pendule come le radici aeree di certe piante che crescono in cima ad altre piante le mani del giovane nel posare le carte sono sempre più lente e incerte e noi abbiamo tutto il tempo di tenerli dietro con le nostre congetture e di rimurginare in silenzio le domande che certo gli saranno girate in testa come ora a noi che città è questa è la città del tutto è la città dove tutte le parti si congiungono le scelte si bilanciano dove si riempie il vuoto che rimane tra quello che ci si aspetta della vita e quello che ci tocca ma chi c'era nella città a cui il giovane potesse domandare immaginiamoci che si è entrato per la porta ad arco della cinta delle mura che si sia inoltrato in una piazza con un'alta scalinata in fondo e che in cima a questa scala sieda un personaggio dagli attributi regali divinità in trono o angelo coronato dietro le spalle gli si vedono due prominenze che potrebbero essere la spalliera del trono ma anche un paio d'ali malamente ricalcate nel disegno e questa la tua città il giovane avrà domandato la tua migliore risposta non avrebbe potuto ricevere qui troverai quello che chiedi figuriamoci se lui preso alla sprovvista è capace a esprimere un desiderio sensato accaldato per essersi arrampicato fin lassù avrà soltanto detto ho sete e l'angelo in trono non hai che da scegliere a quale pozzo bere e avrà indicato due pozzi uguali che s'aprono nella piazza deserta il giovane basta guardarlo per capire che si sente un'altra volta perduto la potenza coronata ora brandisce una bilancia e una spada attributi dell'angelo che veglia sulle decisioni e gli equilibri dall'alto della costellazione della libra dunque pure nella città del tutto si è ammessi soltanto attraverso una scelta e un rifiuto accettando una parte e rinunciando al resto tanto vale che lui se ne vada come è venuto ma nel girarsi vede due regine affacciate a due balconi l'uno di rimpetto all'altro ai due lati della piazza ed ecco che gli sembra di riconoscere le due donne della sua scelta mancata pare che siano lì di guardia per non lasciarlo uscire dalla città tant'è vero che impugnano ciascuna una spada sguainata l'una con la destra l'altra certo per simmetria con la sinistra oppure se sulla spada dell'una non c'erano dubbi quella dell'altra poteva essere anche una penna d'oca o un compasso chiuso o un flauto o un tagliacarte e allora le due donne stavano a indicare due diverse vie che saprono a chi ancora da trovare se stesso la via delle passioni che è sempre una via di fatto aggressiva tagli netti e la via della sapienza che richiede di pensarci su e imparare a poco a poco nel disporre e indicare le carte le mani del giovane ora accennano a oscillazioni e sbandamenti nella successione ora si contorcono rimpiangendo ogni interocco già giocato che meglio valeva tenere in serbo per un altro gioco ora si lasciano andare in molli gesti di indifferenza a significare che ogni tarocco e ogni impozzo sono uguali come le coppe che si ripetono identiche nel mazzo come nel mondo dell'uniforme gli oggetti ai destini ti si squadernano davanti intercambiabili e immutabili e chi crede di decidere è un illuso come spiegare che per la sete che ha in corpo non gli basta questo pozzo né quello e la cisterna dove le acque di tutti i pozzi e tutti i fiumi sfociano e si confondono che lui vuole il mare che è raffigurato nell'arcano detto della stella o delle stelle dove si celebrano le origini acquatiche della vita come trionfo della mescolanza e della grazia di dio buttata a mare una dea nuda prende due caraffe che contengono chissà quali succhi messi in fresco per chi ha sete tutto in giro sono le dune gialle di un deserto assolato e le rovescia innaffiare la riva di ghiaia e in quell'istante una vegetazione di sassifra che spunta in mezzo al deserto e tra le grasse fronte canta un merlo la vita è spreco di materiale che va a ramengo il calderone del mare non fa che ripetere quello che succede dentro costellazioni che continuano da miliardi di anni a pestare gli atomi nei mortai delle loro esplosioni qui evidenti pur nel cielo color latte dal modo che il giovane sbatte questa carta sul tavolo è come se lo sentissimo gridare è il mare è il mare che voglio è il mare avrai la risposta della potenza astrale non poteva che annunciare un cataclisma il sollevarsi del livello degli oceani verso le città abbandonate allambire le zampe dei lupi rifugiati sulle alture ululando verso la luna incombente mentre l'esercito decrostace avanza dal fondo degli abissi a riconquistare il globo un fulmine che picchia sulla vetta dell'albero diroccando ogni mura e torre della città sospesa illumina una vista ancora più ripilante cui il giovane ci prepara scoprendo una carta con gesto lento e occhi atterriti alzandosi in piedi sul suo trono il regale interlocutore cambia che non lo si riconosce più dietro le spalle non è più un piumaggio angelico che si apre ma due ali di pipistrello che oscurano il cielo gli occhi impassibili sono fatti strabici obliqui la corona ha buttato rami di corna il manto cade e scopre un corpo nudo dermafrodito mani e piedi si prolungano in artigli ma non eri un angelo sono l'angelo che abita nel punto in cui le linee si biforcano chiunque risalga le cose divise mi incontra chiunque scenda al fondo delle contraddizioni si batte in me chi torna a mescolare il separato si ritrova la mia ala membranosa sulla guancia ai suoi piedi sono ricomparsi i due gemelli solari trasformati in due creature dalle fattezze insieme umane animalesche con corna coda penne zampe scaglie collegati al grifagno personaggio da due lunghi filamenti o cordoni ombelicali e allo stesso modo ognuno di loro è probabile che tenga al guinzaglio altri due diavoletti più piccoli rimasti fuori dal disegno e così di ramo in ramo si tende una rete di filamenti che il vento fa dondolare come una grande ragnatela tra uno svolazzante dali nere di grandezza decrescente nottole gufi upupe falene calabroni muscerini il vento o le onde le linee tratteggiate in fondo alla carta potrebbero indicare che la grande marea sta già sommergendo la cima dell'albero e tutta la vegetazione si disfa in un ondeggiare d'alghe e di tentacoli ecco come viene esaudita la scena dell'uomo che non sceglie ora sì che ce l'ha il mare affonda a capofitto dondola tra i coralli degli abrissi appeso per i piedi ai sargassi che galleggiano a mezz'acqua sotto la superficie opaca dell'oceano e trascina i capelli verdi di lattuga marina a spazzare fondali scoscesi dunque proprio questa la carta in cui madame sosostri charboyand famosa ma di poco attendibile nomenclatura divinando i destini privati e generali nell'emerito funzionario dell'alloid ha riconosciuto un marinaio fenicio annegato se la sola cosa che lui voleva era uscire dalla limitazione individuale dalle categorie dai ruoli sentire il tuono che romba nelle molecole il mescolarsi delle sostanze prime ed ultime ecco la via che gli si apre attraverso l'arcano detto il mondo venere danza incoronata nel cielo della vegetazione circondata dalle incarnazioni di zeus multiforme ogni specie ed individuo e tutta la storia del genere umano non sono che una casuale anello di una catena di mutazioni e evoluzioni non gli manca che portare a termine il grande giro della ruota in cui evolve la vita animale e di cui non puoi mai dire qual è l'alto e quale il basso o il giro ancora più lungo che passa per il disfacimento la discesa fino al centro della terra nelle colate degli elementi l'attesa dei cataclismi che rimescolano il mazzo dei tarocchi e riportano alla luce gli strati sepolti come nell'arcano del terremoto finale tremito delle mani incanutimento precoce erano tracce belleggere di quel che il nostro sventurato commensale aveva passato in quella stessa notte era stato sminuzzato spade nei suoi elementi primi era stato per i crateri dei vulcani coppe attraverso tutte le ere della terra aveva rischiato di restare prigioniero nell'immobilità definitiva dei cristalli ori era riapparso nella vita attraverso il lancinante germogliare del bosco bastoni fino a riprendere la propria identica forma umana in sella al cavallo di denari ma è davvero lui o non piuttosto un suo sosia che appena restituito a se stesso si è visto venire avanti per il bosco chi sei sono l'uomo che doveva sposare la ragazza che tu non avresti scelto che doveva prendere l'altra strada del bivio dissetarsi all'altro pozzo tu non scegliendo hai impedito la mia scelta dove stai andando a un'altra locanda da quella che tu incontrerai dove ti rivedrò impiccato a un'altra forca da quella cui ti sarai impiccato addio storia della foresta che si vendica il filo della storia è ingarbugliato non solo perché è difficile combinare una carta con l'altra ma anche perché ogni nuova carta che il giovane cerca di mettere in fila con le altre ci sono dieci mani che s'allungano per portargli la via e infilarla in un'altra storia che ciascuno sta mettendo su e a un certo punto le carte gli scappano da tutte le parti e lui deve tenerle ferme con le mani con gli avambracci con i gomiti e così le nasconde anche a chi cerca di capire la storia che sta raccontando lui per fortuna tra tutte quelle mani invadenti ce n'è anche un paio che gli viene in aiuto a tenere le carte in fila e siccome sono maniche come grandezza e come peso ne fanno tre delle altre e il polso e il braccio sono grossi in proporzione e così la forza e la decisione con cui si abbattono sul tavolo va a finire che le carte che il giovane indeciso riesce a tenere insieme sono quelle che restano sotto la protezione delle manone sconosciute protezione che non si spiega tanto con l'interesse per la storia delle sue indecisioni quanto col casuale accostamento da alcune di queste carte in cui qualcuno ha riconosciuto una storia che gli sta più a cuore cioè la sua propria qualcuno anzi qualcuna perché dimensioni a parte la forma di queste dita e mani e polsi e braccia e quella che distingue dita mani polsi braccia femminili di una ragazza paffutella e tornita e di fatti risalendo per queste membra si percorre la persona ad una gigantesca giovinetta che fino a poco fa se n'è stata a sedere in mezzo a noi buona buona e tutta un tratto vinta la soggezione ha preso a gesticolare menando gomitate nello stomaco dei vicini e ribaltandoli giù dalla panca i nostri sguardi s'alzano al suo viso che arrossisce o per timidezza o per collera poi si abbassano sulla figura della regina di bastoni che le rassomiglia parecchio nelle sode fattezze campagnole incorniciate dai rigogliosi capelli canuti e nel portamento brusco ha indicato quella carta con una ditata che sembra un pugno sul tavolo e il mugulio che le esce dalle labbra imbronciate sembra voler dire sì sono proprio io quella e questi folti bastoni sono la foresta in cui sono stata allevata da un padre che non aspettandosi più niente di buono dal mondo civile sarà fatto eremita in questi boschi per tenermi lontana dai cattivi influssi del consorzio umano ho educato la mia forza giocando coi cinghiali e coi lupi e ho imparato che la foresta pur vivendo nello sbranarsi e inghiottirsi continuo da animali e vegetali è regolata da una legge la forza che non sa fermarsi in tempo bisonte o uomo o condor fa il deserto intorno e ci lascia le cuoia e servirà da pascolo alle formiche e alle mosche questa legge che gli antichi cacciatori conoscevano bene ma che oggi nessuno più ricorda la si può decifrare nel gesto inesorabile ma controllato con cui la bella domatrice torce le fauci di un leone con la punta delle dita asciuta in confidenza con le bestie selvatiche era rimasta selvatica in presenza delle persone quando sente il trotto d'un cavallo e per i sentieri del bosco vede passare un bel cavaliere lo spia tra i cespugli poi scappa intimidita poi taglia giù per scorciatoie per non perderlo di vista ecco che lo ritrova appeso per i piedi a un ramo da un brigante di passo che gli svuota le tasche dell'ultimo quattrino non ci sta a pensare su la ragazzona boschereccia si butta sul brigante mulinando con la sua clava come rami secchi crepitano ossa tendine articolazioni cartilagini qui dobbiamo supporre che lei abbia staccato dall'albero il bel giovane e l'abbia rianimato alla maniera dei leoni leccandolo sul viso da una borraccia che porta a tracolla versa due coppe di una bevanda di cui lei sola alla ricetta qualcosa come un succo di ginepro fermentato e latte acido di capra il cavaliere si presenta sono principe ereditario dell'impero figlio unico di sua maestà mi hai salvato dimmi come posso ricompensarti e lei resta a giocare un po con me e si nasconde tra i corbezzoli quella bevanda era un potente afrodisiaco lui la rincorre svelta svelta la narratrice vorrebbe far passare sotto i nostri occhi l'arcano il mondo come un accenno verecondo in questo gioco presto la mia fanciullezza andò perduta ma il disegno mostra senza reticenze come al giovine sera rilevata la nudità di lei trasfigurata in una danza amorosa e come ogni volteggio di questa danza lui scoprisse lei una nuova virtù forte come una leonessa altera come un'aquila materna come una mucca soave come un angelo l'invagimento del principe è confermato dal tarocco seguente l'amore che pure mette in guardia contro una situazione ingarbugliata il giovanotto risultava sposato e la sua legittima consorte non intendeva lasciarselo scappare le pastoie legali poco contano nella foresta rimani qui con me e dimentica la corte la sua etichetta e i suoi intrighi questa proposta o altra ugualmente sensata gli deve aver fatto la ragazza e non tiene conto che i principi possono avere dei principi sono il papa può sciogliermi dal primo matrimonio tu aspettami qui vado sbrigo la pratica e ritorno è salito sul suo carro parte senza nemmeno voltarsi assegnandole una modesta provvigione tre di denari abbaddonata in breve volgere di stelle e colta dalle doglie si trascina in riva un rivo le belve del bosco sanno ben partorire senza aiuto e lei ha imparato da loro da alla luce del sole due gemelli così robusti che già stavano in piedi coi miei figli mi presenterò a chiedere giustizia all'imperatore in persona che riconoscerà in me la vera sposa del suo erede e genitrice dei suoi discendenti e con questo proposito si mette in marcia verso la capitale avanza e avanza la foresta non finiva incontra un uomo che scappa come un matto inseguito dai lupi dove credi di andare malcapitata non esiste più città né impero le strade non portano più da nessun luogo a nessun luogo guarda l'erba gialla è stentata e la sabbia del deserto coprono l'asfalto ai marciapiedi della città sulle dune ululano gli sciacalli nei palazzi abbandonati sotto la luna le finestre saprono come occhiaie vuote da scantinati e sotterranei dilagano i topi e gli scorpioni eppure la città non è morta i macchinari i motori le turbine continuano a ronzare a vibrare ogni ruota ingranare i suoi denti in altre ruote i vagoni a correre sui binari e i segnali sui fili e nessun uomo è più lì a trasmettere o a ricevere a rifornire o a scaricare le macchine che da tempo sapevano di poter fare a meno degli uomini finalmente li hanno cacciati e dopo lungo esilio gli animali selvatici sono tornati a occupare i territori strappati alla foresta volpi e martore allungano la soffice coda sui quadri di comando costellati di manometri e leve quadranti e diagrammi tassi e si crogiolano sugli accumulatori e sui magneti l'uomo è stato necessario adesso è inutile perché il mondo riceve informazioni dal mondo e ne goda bastano ormai i calcolatori e le farfalle così si conclude la vendetta delle forze terrestre scatenate in scoppia catena di trombe d'aria e di tifoni poi gli uccelli già dati per estinti si moltiplicano e calano a stormi dai quattro punti cardinali con uno stridio assordante quando il genere umano rifugiato in buche sotterranee prova a riemergere vede il cielo oscurato da una fitte coltredali riconoscono il giorno del giudizio come rappresentato nei tarocchi e che ad un'altra carta s'avverava l'annuncio verrà il giorno in cui una piuma butterà giù la torre di nembrot storia del guerriero sopravvissuto anche se la narratrice una che sa il fatto suo non è detto che la sua storia si segua meglio dell'altra perché le cose che le carte nascondono sono più di quelle che dicono e perché appena una carta dice di più subito altre mani cercano di tirarla dalla parte loro per imbastardirla in un altro racconto uno magari comincia a raccontare per conto suo con carte che sembrano appartenere solo a lui e tutta un tratto la conclusione precipita cavallandosi con quelle delle altre storie nelle stesse figure catastrofiche ecco per esempio uno che ha tutta l'aria ad essere un ufficiale in servizio e ha cominciato con riconoscersi nel cavaliere di bastoni anzi ha passato la carta in giro perché si veda che bel cavallo inquadrappato lui montava quel mattino quando è partito dalla caserma e che attillata uniforme indossava guarnita di lucenti piastre di corazza con una gardenia alla fibbia ad un gambale il suo autentico aspetto sembra dire era quello e se adesso noi lo vediamo male in arnese e male in gamba è solo per la spaventosa avventura che si prepara a raccontare ma a ben guardare quel ritratto contiene anche elementi che corrispondono al suo aspetto di adesso i capelli bianchi l'occhio vaneggiante la lancia spezzata e ridotta un troncone a meno che si trattasse non d'un pezzo di lancia tanto più che lo reggeva con la sinistra ma ad un foglio di pergamena arrotolato un messaggio che gli era stato ordinato di recapitare forse attraverso le linee nemiche supponiamo che lui sia un ufficiale d'ordinanza e abbia avuto per consegna di raggiungere il quartier generale del suo sovrano o comandante e rimettere in sua mano un dispaccio da cui dipenda l'esito della battaglia in furia il combattimento il cavaliere ci finisce in mezzo a fil di spada gli eserciti opposti s'aprano la strada uno nell'altro come in un dieci di spade nelle battaglie due sono i modi che si raccomandano per battagliare o dare giù nel mezzo che pigli pigli o scegliere tra tutti i nemici un nemico che faccia al caso e lavorartelo di fino il nostro ufficiale d'ordinanza vede venirgli incontro un cavaliere di spade che spicca sugli altri per l'eleganza dell'equipaggiamento umano ed equino la sua armatura a differenza delle altre che si vedono in giro messe insieme con pezzi scompagnati è completa ad ogni ammeniccolo è tutta ad un colore dall'elmo e cosciali un blu per vinca su cui risaltano il pettorale gli schinieri dorati ai piedi calza babbucce di damasco rosso come la gualdrappa del cavallo il viso pur stravolto dal sudore dalla polvere e di fini lineamenti tiene lo spadone con la sinistra dettaglio da non trascurare i mancini sono temibili avversari ma anche il nostro brandisce con la sinistra la sua mazza dunque sono mancini e terribili entrambi contendenti degni l'uno dell'altro le due spade intrecciate in mezzo a un di rametti ghiande foglioline e fiori in boccio indicano che i due si sono appartati per un duello singolare e a fendenti e traversoni potano la vegetazione circostante da principio pare al nostro che il per vinca sia di braccio più veloce e forte e basti buttarglisi contro a corpo morto per soverchiarlo ma quello gli piove addosso piattonate da confincarlo al suolo come un chiodo già i cavalli scalciano capovolti come tartalughe sul terreno seminato di spade contorte come serpi e ancora il guerriero per vinca resiste forte come un cavallo sfuggente come una serpe carafratto come una tartaluga più il duello cresce in accanimento più aumenta lo sfoggio della bravura il piacere di scoprire in sé o nel nemico nuove risorse inaspettate e così nel pesta pesta va insinuandosi la grazia ad una danza duellando il nostro si è già scordato la sua missione quando risuona alto sul bosco una tromba che pare quella dell'angelo del giudizio nell'arcano detto del giudizio o anche dell'angelo è l'olifante che chiama raccolta i fedeli dell'imperatore certo un grave pericolo minaccia l'armata imperiale senza più tardare l'ufficiale deve correre in aiuto del suo sovrano ma come può interrompere un duello che tanto impegna il suo onore e il suo piacere deve portarlo a termine al più presto e fa per riguadagnare la distanza che ha perso dal suo nemico allo squillo della tromba ma dov'è il per vinca è bastato quel momento di perplessità e l'avversario è sparito l'ufficiale si butta nel bosco per seguire il richiamo dell'allarme e insieme per inseguire il fuggitivo si fa largo nel folto tra bastoni e sterpi e stecchi da una carta all'altra il racconto avanza a bruschi salti che occorre graduare in qualche modo il bosco finisce un tratto la campagna aperta si stende intorno silenziosa sembra deserta nell'ombra della sera guardando meglio si vede che è gremita di uomini una folla disordinata che la copre senza lasciare angolo sgombro ma è una folla appiattita come spalmata sulla superficie del suolo nessuno di questi uomini sta in piedi giacciono distesi sulla pancia o sulla schiena non riescono a levare le teste più in su delle foglie d'erba calpestate alcuni che la morte non ancora irrigidito annaspano come imparando a nuotare nella fanghiglia nera del loro sangue qua e là fiorisce una mano s'apre e chiude cercando il polso da cui è stata troncata un piede si trova a muovere passi leggeri senza più un corpo da reggere sopra le caviglie teste di paggi e di sovrani scrollano le lunghe chiome ricadenti sugli occhi o cercano di raddrizzare la corona sghemba sulla calvizie e non fanno che scavare la polvere col mento e masticare ghiaia quale rovina si è abbattuta sull'armata imperiale questa domanda probabilmente il cavariere ha rivolto al primo essere vivente incontrato qualcuno così lordo e sbrindellato che da lontano somigliava al matto dei tarocchi e da vicino si scopriva essere un soldato ferito e zoppicante in fuga dal campo della carneficina nel muto racconto del nostro ufficiale la voce di questo scampato suona stonata chioccia farfugliante in un dialetto malintellegibile frasi smuzzicate del tipo non stia a far bischerate sortenente chi ha gambe scappi la frittata ha dato il giro quello è un esercito che chi lo sa di dovere canchero è uscito mai visto prima scatenassi satanati sul più bello ecco te li li che ci piombano tra collo e capo e già eravamo buoni per le mosche tieniti coperto sor ufficiale e passa a largo e già il soldataccio si allontana mostrando le vergogne dal rotto delle brache hanno usato dai cani randaggi come fratello loro nel puzzo trascinandosi dietro il fagotto del bottino racimolato nelle tasche dei cadaveri ci vuole altro per distogliere il nostro cavaliere dall'avanzare scansando l'ulato degli sciacalli per lustra i confini del campo di morte al lume della luna vede luccicare appesi a un albero uno scudo dorato e una spada d'argento riconosce le armi del nemico dalla carta accanto si sente un fiottare d'acqua un torrente scorre là sotto tra le canne il guerriero sconosciuto è fermo sulla riva e si sta spogliando dell'armatura il nostro ufficiale certo non può attaccarlo in quel momento si nasconde per attenderlo al barco quando sia di nuovo armato in grado di difendersi dalle piastre dell'armatura escono membra bianche e gentili dall'elmo una cascata di capelli bruni che si sciolgono lungo il dorso fino al punto in cui si narca quel guerriero ha pelle di giovinetta polpe di dama seno e grembo di regina è una donna che sotto le stelle accoccolata sul ruscello va facendo le abluzioni della sera come ogni nuova carta che si posa sul tavolo spiega o corregge il senso delle carte precedenti così questa scoperta manda all'aria le passioni e i propositi del cavaliere se prima in lui emulazione invidia rispetto cavalleresco per l'avversario valoroso si scontravano con l'urgenza di vincere vendicare sopraffare ora la vergogna ad essere stato tenuto in scacco da un braccio di fanciulla la fretta di ristabilire la supremazia maschile vilipesa si scontrano con lo struggimento di darsi subito per vinto catturato da quel braccio da quella ascella da quel seno il primo di questi nuovi impulsi è il più forte se le parti dell'uomo e della donna si sono mescolate occorre subito ridistribuire le carte restaurare l'ordine manomesso fuori dal quale uno non sa più chi è né cosa ci si aspetta da lui quella spada non è un attributo della donna e un'usurpazione il cavaliere che con un avversario del suo stesso sesso mai si avvantaggierebbe del sorprenderlo disarmato e tanto meno lo dedurrebbe di nascosto ora striscia tra i cespugli s'avvicina alle armi appese impugna con mano furtiva la spada la stacca dall'albero scappa la guerra tra uomo e donna non conosce norme né lealtà pensa e ancora non sa quanto per sua sventura e nel vero sta per sparire nel bosco quando si sente afferrato per le braccia e le gambe legato appeso a testa in giù da ogni macchia della riva sono saltate fuori bagnanti nude dalle lunghe gambe come quella che si slancia nella carta del mondo per un barco tra le fronde è un reggimento di guerriere gigantesche sciamato dopo la battaglia lungo l'acqua rinflerscarsi e crogiolarsi e ritemprare la loro forza di fulmine leonesse in un secondo gli sono tutti addosso te lo pigliano te lo rovesciano se lo strappano di mano in mano lo pizzicano lo tirano di qua e di là lo assaggiano con le dita le lingue le unghie i denti no non così ma siete matte lasciali cosa mi fate adesso lì non voglio basta mi rovini ai 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 pietà lasciato lì per morto viene soccorso da un eremita che a lume di lanterna percorre i luoghi della battaglia componendo le spoglie dei morti e medicando le piaghe dei mutilati il discorso del sant'uomo si può ricavare dalle ultime carte che il narratore posa sul tavolo con mano tremante non so se meglio sia stato per te sopravvivere o soldato la disfatta e la carneficina non si abbattono solo sulle armate della tua bandiera l'esercito delle amazzone giustiziere travolge massacra i reggimenti e gli imperi dilaga sui continenti del globo da diecimila anni soggetti alla pur fragile signoria maschile il precario armistizio che tratteneva uomo e donna a fronteggiarsi nelle famiglie è rotto spose sorelle figlie e madri non riconoscono più in noi padri fratelli figli sposi ma soltanto nemici e tutte accorrono armi in pugno a ingrossare l'esercito delle vendicatrici i fieri fortilizi del nostro sesso crollano uno a uno a nessun uomo è fatta grazia chi non l'uccidono lo castrano solo a pochi prescelti come fuchi dal veare è concesso un rinvio ma li attendono supplizi più atroci ancora per togliergli la voglia di vantarsi per l'uomo che credeva ad essere uomo non c'è riscatto regine punitrici governeranno per i prossimi millenni storia del regno dei vampiri uno solo tra noi non all'aria di spaventarsi neanche delle carte più funeste anzi sembra intrattenere con l'arcano numero 13 una brusca confidenza e siccome è un omaccione non diverso da quello che si vede nella carta del fante di bastoni e nel mettere le carte in fila pare darci dentro al suo faticoso lavoro di tutti i giorni attento alla regolarità della distesa di rettangoli separati da vialetti viene naturale di pensare che il legno a cui si appoggia nella figura sia il manico d'una pala affondata in terra e lui eserciti il mestiere di becchino nella luce incerta le carte descrivono un paesaggio notturno le coppe si profilano come urne arche avelli tra le ortiche le spade risuonano metalliche come banghe o badili contro i coperchi di piombo i bastoni ne reggiano come croci storte gli ori ammiccano come fuochi fatui appena una nuvola scopre la luna si leva l'ululato degli sciacalli che raspano furiosi ai bordi delle tombe e contendono le loro putride imbaldigioni agli scorpioni alle tarantole in questo scenario notturno possiamo immaginare un re che s'avanza perplesso accompagnato dal suo buffone o nano di corte abbiamo le carte del re di spade e del matto che fanno proprio al caso e supporre un dialogo tra loro che il becchino coglie al volo cosa sta cercando il re lì a quell'ora la carta della regina di coppe ci suggerisce che egli stia seguendo le tracce di sua moglie il buffone l'ha vista uscire di nascosto dalla reggia e un po per scherzo un po sul serio ha convinto il sovrano a pedinarla metti male com'è il nano sospetta un intrigo d'amore ma il re è sicuro che tutto ciò che fa sua moglie può apparire alla luce del sole è l'assistenza all'infanzia abbandonata che l'obbliga a tanti andirivieni è ottimista per vocazione il re nel suo reame tutto va per il meglio i denari circolanti e ben investiti le coppe dell'abbondanza offerte alla sete festosa della prodiga clientela la ruota del grande meccanismo che gira per forza propria giorno e notte e una giustizia rigorosa e razionale quale quella che affaccia nella sua carta un fisso volto d'impiegata allo sportello la città che lui ha costruita è sfaccettata come un stallo o come lasso di coppe traforata dalla grattugia di finestre di grattacieli saliscesa dagli ascensori auto incoronata dalle altostrade non parca di parcheggi scavata dal formicaio luminoso delle sette rovie una città le cui cuspidi sovrastano le nuvole che seppellisce le ali oscure dei suoi miasmi nelle viscere del suolo perché non offuschino la vista delle grandi vetrate e la cromatura dei metalli il buffone invece ogni volta che apre bocca tra uno sberleffo e un lazzo semina sospetti dicerie denigratorie angosce allarmi per lui il grande meccanismo è spinto da bestie infernali e le ali nere che spuntano sotto la coppa città indicano un insidia che la minaccia da dentro il re deve stare al gioco non stipendia forse il matto apposta per farsi contraddire e canzonare è antica e saggia usanza delle corti che il matto o giullare o poeta eserciti la sua funzione di capovolgere e deridere i valori sui quali il sovrano basa il proprio dominio e gli dimostri che ogni linea diritta nasconde un rovescio storto ogni improdotto finito uno sconquasso di pezzi che non combaciano ogni discorso filato un bla 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 eppure ogni tanto questi frizzi provocano nel re una vaga inquietudine anche questo certa prevista anzi garantita dal contratto tra re e giullare eppure un po inquietante lo stesso e non solo perché l'unico modo di fruire di un'inquietudine è l'inquietarsi ma proprio perché si inquieta davvero come adesso che il matto ha condotto il re nel bosco dove c'eravamo tutti smarriti di foreste così fitte non sapevo che ne fossero rimaste nel mio reame deve aver osservato il monarca e a questo punto con le cose che si dicono contro di me che impedisco alle foglie di fiatare ossigeno dei propri pori e digerire luce nei loro verdi succhi non posso che rallegrarmene e il matto fossi in te maestà non mi rallegrerei tanto non è fuori dell'illuminata metropoli che la foresta estende le sue ombre ma dentro nelle teste dei tuoi sudditi conseguenti e esecutivi vorresti insinuare che qualcosa sfugge al mio controllo matto è quello che vedremo da fitto che era il bosco va lasciando spazi a viali rincalzati di terra smossa e fosse rettangolari a un capriccio il tredicesimo terrocco ci avverte che il sottobosco si concima di cadaveri malsecchi e ossa spolpate ma dove mai portato matto è un cimitero e il buffone indicando la fauna invertebrata che pascola nelle tombe qui regna un sovrano più potente di te sua maestà il verme non ho mai visto nel mio territorio un posto dove l'ordine lasci più a desiderare chi è quel salame che è preposto a questo ministero io per servirla maestà e ora è il momento che il becchino entra in scena e snoccioli la sua tirata per rimuovere il pensiero della morte i cittadini nascondono i cadaveri qua giù alla bella e meglio ma poi rimuovi che rimuovi ci ripensano e tornano a controllare se sono seppelliti abbastanza se morti essendo morti sono proprio qualcosa di diverso dai vivi perché altrimenti i vivi non sarebbero più tanto sicuri d'essere vivi dico bene e così tra sepolture esumazioni leva e metti e rimesta per me c'è sempre un grande affare e il becchino si sputa nelle mani e riprende a dar di pala la nostra attenzione si sposta su un'altra carta che sembra non voler darne l'occhio la papessa e la indichiamo al nostro commensale con un gesto interrogativo che potrebbe corrispondere a una domanda del re al becchino avendo scorto una figura incappucciata in un mantello da monaca che si è accoccolata tra le tombe chi è quella vecchia che razzola nel sepolcreto dio ne scampi qui di notte gira una mala genia di donne avrà risposto il becchino segnandosi esperte in filtri e libri di incantesimi che vanno in cerca di ingredienti per i loro malefizi seguiamola e studiamo il suo comportamento non io maesta e il buffone a quel punto si sarà tirato indietro con un brivido e vi scongiuro di girare a largo devo pur sapere fino a qual punto nel mio regno si conservino superstizioni decrepite sul carattere ostinato del re si può giurare guidato dal becchino leva dietro nell'arcano detto le stelle vediamo la donna togliersi il manto e le bende monacali non è affatto vecchia è bella e nuda il chiaro di luna scintilla di bagliori siderali e rivela che la visitatrice notturna del cimitero assomiglia alla regina prima è il re a riconoscere il corpo della consorte i seni gentilmente appera la spalla soffice la coscia generosa il ventre ampio ed oblungo poi appena lei alza la fronte e mostra il viso incorniciato dalla greve capigliatura sciolta sulle spalle anche noi restiamo a bocca aperta se non fosse per l'espressione rapita che non è certo quella dei ritratti ufficiali sarebbe uguale identica alla regina come si permettono queste immonde fattucchiere ad assumere le sembianze di persone educate e prestigiose questa e non altra sarà la reazione del re che pur d'allontanare ogni insospetto da sua moglie è pronto a concedere alle streghe un certo numero di poteri soprannaturali compreso quello di trasformarsi al loro piacimento una spiegazione alternativa che soddisfarebbe meglio ai requisiti della vero somiglianza mia moglie poverina col suo esaurimento anche le crisi di sonnambulismo le dovevano venire l'avrà subito scartata vedendo ai quali laboriose operazioni si dedica alla presunta sonnambula inginocchiata sull'orlo di una fossa unge il terreno di torbidi filtri se gli arnesi che tiene in mano non sono da interpretare addirittura come fiamme ossidriche sprizzanti scintille per dissaldare il piombo di una bara quale che sia il procedimento messo in opera è dello scoperchiamento di una tomba che qui si tratta scena che un altro tarocco prevede per il giorno del giudizio alla fine dei tempi e che invece veniva anticipato per mano di una fragile signora con l'aiuto di due bastoni e d'una fune la strega estrae dalla fossa un corpo appeso per i piedi è un morto dall'aspetto ben conservato dal cranio pallido pende una capigliatura folta ad un nero quasi azzurro gli occhi sono sbarrati come da morte violenta le labbra contratte sui denti canini lunghi aguzzi che la strega scopre con un gesto carezzevole in mezzo a tanto orrore non ci sfugge un particolare come la strega è una sosia della regina così il cadavere il re si somigliano come due gocce d'acqua il solo a non notarlo è proprio il re cui sfugge un'esclamazione compromettente strega vampira e adultera allora ammette che la strega e sua moglie sono la stessa persona o forse pensa che assumendo le fattezze della regina la strega debba rispettarne anche gli obblighi forse il sapere d'essere tradito col proprio doppione potrebbe consolarlo ma nessuno ha il coraggio ad avvertirlo e in fondo alla tomba sta succedendo qualcosa di indecente la strega secchinata sul cadavere come una gallina che cova ecco che il morto si rige come l'asso di bastoni come il fante di coppe porta le labbra a un calice che la strega gli ha offerto come nel due di coppe brindano insieme alzando bicchieri rosseggianti di un sangue fresco e senza coaguli il mio regno metallico ed asettico e dunque ancora pascolo di vampiri setta immonda e feudale il grido del re deve essere di questo tenore mentre i capelli a ciocca a ciocca gli si rizzano in capo e ricadono al loro posto incanutiti la metropoli che egli ha sempre creduto compatta e trasparente come una coppa intagliata nel cristallo di rocca si rivela porosa e incancrenita come un vecchio sughero ficcato lì alla meglio per tappare la breccia nel confide umido e infetto del regno dei morti sappi e questa spiegazione non può venire che dal vecchino che quella maliarda nelle notti di solstizio ed equinozio va alla tomba del marito che lei stessa ha ucciso lo di sotterra gli irrità vita nutrendolo delle proprie vene e si congiunge a lui nel cranzabba dei corpi che di sangue altrui alimentano le consunte arterie e riscaldano la pudenda perversa e polimorfe di questo ampio rito i tarocchi riportano due versioni tanto disparate da sembrare l'opera di due mani diverse l'una rozza che si sforza di rappresentare una figura esecrabile a un tempo uomo donna pipistrello denominata il diavolo l'altra tutta festoni e ghirlande che celebra la riconciliazione delle forze terrestri con quelle del cielo a simbolo della totalità del mondo mediante la danza di una maga o ninfa ignuda tripudiante ma l'intagliatore dei due tarocchi poteva pur essere una sola e medesima persona l'adepto clandestino ad un culto notturno che aveva bozzato con rigidi tratti lo spauracchio del diavolo per schernire l'ignoranza ad esorcisti e inquisitori e aveva profuso le sue risorse ornamentali nell'allegoria della sua fede segreta ditemi bravo uomo come posso liberare i miei territori da questo flagello avrà chiesto il re e subito ripreso da un sussulto bellicoso le carte di spade sono pur sempre pronti a ricordargli che il rapporto di forze gli resta favorevole forse avrà proposto ben potrei far ricorso al mio esercito adestrato alla manovra girante e premente al mettere a fuoco e a ferro all'appiccare furto e incendio a radere al livello del suolo a non lasciare filo d'erba muovere di foglia anima viva maesta non è il caso lo interruppe il becchino che nelle sue notti al cimitero deve averne viste di tutti i colori quando il sabba si lascia sorprendere dal primo raggio del sole nascente tutte le streghe vampiri incubi e succubi si danno alla fuga trasformandosi chi in nottola chi in pipistrello chi in altra specie di chirotteri sotto tali spoglie come ha avuto modo di notare essi perdono la loro invulnerabilità abituale a quel momento con questa trappola nascosta cattureremo la maliarda confido in quel che dite bravo uomo allora all'opera tutto si compie secondo i piani del becchino almeno questo è quanto ricaviamo dal soffermarsi della mano del re sul misterioso arcano della ruota che può designare tanto la ridda degli spettri zoom orfi quanto la trappola messa su con materiali di fortuna la fattucchiera c'è cascata dentro sotto forma di una ributtante pipistrella coronata insieme a due e lemuri suoi succubi scalpitanti nel mulinello senza via d'uscita quanto ancora la rampa di lancio in cui il re ha incapsulato l'infernale selvaggina per scaraventarla in un'orbita senza ritorno e sgravarne il campo di gravità terrestre in cui tutto ciò che butti per aria ti ricade sulla testa e magari scaricarla sui terreni vaghi della luna che da troppo tempo governa gli estri dei licantropi le generazioni delle zanzare i mestrui e pur pretende di serbarsi incontaminata terza candida il narratore contempla con sguardo ansioso la curva che allaccia il due di denari come se scrutasse la traiettoria dalla terra alla luna unica via che gli sovviene per un'espulsione radicale dell'incongruo dal suo orizzonte ammesso che selene decaduta dai fastigi di idea si rassegni al rango di celeste pattumiera un sussulto la notte è squarciata da una folgore alta sulla foresta in direzione della città luminosa che all'istante sparisce nel buio come se il fulmine si sia abbattuto sul castello reale decapitando la torre più elevata che gratti il cielo della metropoli o uno sbalzo di tensione negli impianti troppo carichi della grande centrale abbia annerito il mondo nel blackout circuito corto notte lunga un proverbio di malaugurio torna alla mente del vecchino e di tutti noi immaginandoci come nell'arcano numero uno detto il bagatto gli ingegneri che in quel momento si affannavano a smontare il gran cervello meccanico per trovare il guasto nella confusione di rotelle rocchetti elettrodi e carabattole le stesse carte in questo racconto vengono lette rilette con significati diversi la mano del narratore oscilla convulsa e indica ancora la torre e l'appeso come invitandoci a riconoscere nelle telefoto sfocate di un giornale della sera le istantanee di un atroce fatto di cronaca una donna che precipita da vertiginosa altezza nel vuoto fra le facciate dei grattacieli nella prima di queste due figure la caduta ebbe resa nell'annaspare delle mani nel rovesciarsi della gonna nella simultaneità della doppia immagine vorticante nella seconda col particolare del corpo che prima di sfracellarsi al suolo si impiglia per i piedi nei fili è spiegata la ragione del guasto elettrico e così c'è dato di ricostruire mentalmente il fattaccio con la voce ansante del matto che raggiunge il re la regina la regina veniva giù di schianto incandescente hai presente le meteore fa per aprire le ali no è legata per le zampe giù a capofitto si impiglia nei fili e resta lì tesa all'altezza dell'alta tensione scalcia crepita sbatacchia tira le cuoia le real membrane della nostra sovrana bene amata stecchita pende lì si leva un tumulto la regina è morta la nostra buona sovrana si è buttata dal balcone il re l'ha uccisa vendichiamola da tutte le parti accorre gente a piedi a cavallo armata di spade bastoni scudi e dispongono coppe di sangue avvelenato per esca è una storia di vampiri il regno è in balia dei vampiri il re è un vampiro catturiamolo due storie in cui si cerca e ci si perde gli avventori della taverna si danno spintorni intorno al tavolo che si è andato coprendo di carte sforzandosi di tirar fuori le loro storie dalla mischia dei tarocchi e quanto più le storie diventano confuse e sgangherate tanto più le carte sparpagliate vanno trovando il loro posto in un mosaico ordinato è solo il risultato del caso questo disegno oppure qualcuno di noi lo sta pazientemente mettendo insieme c'è per esempio un uomo anziano che in mezzo al parapiglia conserva la sua calma meditativa e prima di mettere giù una carta ci studia sopra ogni volta come assorto in un'operazione che non si sa se riesce una combinazione di elementi di poco conto ma da cui può saltar fuori un risultato sorprendente la bianca barba professorale e ben tenuta lo sguardo grave in cui si affaccia una punta di inquietudine sono alcuni dei tratti che ha in comune con la figura del re di denari questo suo ritratto insieme con le carte di coppe e di ori che gli si devono intorno potrebbero servire a definirlo come un alchimista che ha speso la sua vita a indagare le combinazioni degli elementi e le loro metamorfosi negli alambicchi e nelle ampolle che gli va porgento il fante di coppe suo famulo assistente egli scruta il ribollire di liquidi densi come orina colorati dai reagenti nuvole di indaco o di cinabro da cui devono staccarsi le molecole del re dei metalli ma l'attesa è inutile ciò che resta in fondo ai recipienti è solo piombo e a tutti noto o almeno dovrebbe esserlo che se l'alchimista cerca il segreto dell'oro per smania di ricchezza i suoi esperimenti fanno fiasco deve invece liberarsi dagli egoismi e dalle limitazioni individuali diventare una cosa sola con le forze che si muovono in fondo alle cose e alla prima vera trasformazione che è quella di se stesso le altre seguiranno docilmente avendo dedicato i suoi anni migliori a questa grande opera il nostro anziano commensale anche adesso che si trova un mazzo di tarocchi in mano è un equivalente della grande opera che vuole comporre disponendo le carte in un quadrato in cui si leggano dall'alto in basso da sinistra a destra e viceversa tutte le storie compresa la sua ma quando gli sembra ad essere riuscito a far quadrare le storie degli altri s'accorge che la storia sua si è persa non è lui il solo a cercare nella successione delle carte la via ad un cambiamento dentro se stesso che si trasmetta al fuori c'è anche chi con la bella incoscienza della gioventù si sente di riconoscersi nella più baldanzosa figura di guerriero di tutto il mazzo il cavaliere di spade e di prendere di petto le carte più taglienti di spade e più puntute di bastoni per raggiungere il suo traguardo ma dovrà fare un lungo giro come indica il segno serpeggiante del due di denari sfidare due di spade le potenze infernali il diavolo evocate dal mago merlino il bagatto nella foresta di brocelianda sette di bastoni se vorrà alla fine essere ammesso a sedersi alla tavola rotonda dieci di coppe di re artù re di spade al posto che finora nessun cavaliere è stato degno d'occupare a ben vedere tanto per l'alchimista quanto per il cavaliere errante il punto d'arrivo dovrebbe essere l'asso di coppe che per l'uno contiene il flogisto la pietra dei filosofi o l'elisir di lunga vita e per l'altro è il talismano custodito dal re pescatore il vaso misterioso che il suo primo poeta non fece a tempo a spiegarci cos'era o non lo volle dire e che da allora sgorga fiumi di inchiostro di congetture la grolla che continua a essere contesa tra la religione romana e quella celtica forse il trovatore di champagne proprio questo voleva tener via la battaglia tra il papa e il druido eremita non c'è miglior luogo per custodire un segreto che un romanzo incompiuto dunque il problema che quei due nostri commensali volevano risolvere disponendo le carte intorno all'asso di coppe era allo stesso tempo la grande opera alchemica e la ricerca del graal nelle stesse carte una per una entrambi possono riconoscere le tappe delle loro arte o avventura nel sole l'astro dell'oro o l'innocenza del fanciullo guerriero nella ruota il moto perpetuo o l'incantesimo del bosco nel giudizio la morte e resurrezione dei metalli e dell'anima o la chiamata celeste stando così le cose le due storie rischiano continuamente di inciampare l'una nell'altra se non se ne mette bene in chiaro il meccanismo l'alchimista è colui che per ottenere gli scambi nella materia cerca di far diventare la sua anima inalterabile e pura come l'oro ma si dia il caso di un dottor faust che inverte la regola dell'alchimista fa dell'anima un oggetto di scambio e così spera che la natura diventi incorruttibile e non occorra più cercare l'oro perché tutti gli elementi saranno ugualmente preziosi il mondo è d'oro e l'oro e il mondo allo stesso modo è cavaliere errante colui che sottomette le sue azioni a una legge morale assoluta e severa perché la legge naturale mantenga l'abbondanza sulla terra con assoluta indulgenza ma proviamo a supporre un parseval parsival parsifal che inverta la regola della tavola rotonda le virtù cavalleresche saranno in lui involontarie verranno fuori come un dono della natura come i colori delle ali delle farfalle e così compiendo le sue imprese con attonita incuranza forse riuscirà a sottomettere la natura alla sua volontà a possedere la scienza del mondo come una cosa a diventare mago e taumaturgo a far cicatrizzare la piaga del re pescatore e a ridare verde linfa alla terra deserta il mosaico di carte che stiamo qui inchiodati a guardare e dunque l'opera o la ricerca che si vorrebbe portare a termine senza operare né cercare il dottor faus si è stancato di far dipendere dalla lente trasformazioni che avvengono dentro di sé le metamorfosi istantanee dei metalli dubita della sapienza che si accumula in una solitaria vita d'eremita e deluso dei poteri della sua arte come del cinischiare tra le combinazioni dei tarocchi in quel momento un lampo illumina la sua celletta in cima alla torre gli compare di fronte un personaggio con un cappello a larghe tese come quello che portano gli studenti a forse è un chierico vagante o un bagatto charlatano un mago da fiera che ha allestito su di un panchetto un laboratorio di barattoli scompagnati tu credi di contraffare la mia arte così il vero alchimista avrà apostrofato l'impostore che brodaglia rimesti nelle tue pignatte il brodo che era alle origini del mondo così può aver risposto lo scorosciuto da dove hanno preso forma i cristalli e le piante le specie degli animali e la schiatta dell'uomo sapiente e quanto lui dice appare in trasparenza nella materia che bolle in un crogiolo incandescente così come ora noi lo contempliamo nell'arcano 21 in questa carta che porta il numero più alto di tutti i tarocchi ed è quella che più vale nel punteggio dei giocatori fo la nuda una dea incorniciata di mirto forse venere le quattro figure che stanno intorno sono riconoscibili come emblemi devoti più recenti ma questo non è forse altro che un prudente trasferimento da altre apparizioni meno incompatibili col trionfo della dea là in mezzo forse centauri sirene arpie gorgoni che reggevano il mondo prima che l'autorità dell'olimpo l'avesse sottomesso oppure forse dinosauri mastodonti pterodattili mammut le prove che la natura ha fatto prima di rassegnarsi non si sa per quanto ancora al predominio umano e c'è pure chi vede nella figura centrale non una venere ma l'ermafrodito simbolo delle anime che raggiungono il centro del mondo punto culminante dell'itinerario che deve percorrere l'alchimista e puoi fare anche loro dunque questo avrà domandato il dottore a cui l'altro guarda deve aver risposto facendogli balenare la vista di casseforti traboccanti di lingotti fatti in casa e puoi ridarmi la giovinezza ecco che il tentatore gli mostra l'arcano dell'amore in cui la storia di faust si confonde con quella di don giovanni tenorio certo anch'essa nascosta nel reticolo dei tarocchi cosa vuoi per cedermi il segreto la carta del due di coppe è una promemoria del segreto per fare l'oro e la si può intendere come gli spiriti dello zolfo del mercurio che si separano o come l'unione del sole della luna o la lotta del fisso del volatile ricette che si leggono in tutti i trattati ma che per riuscirci puoi passare tutta una vita a soffiare sui fornelli e non venirne a capo pare che il nostro commensale stia decifrando lui stesso nei tarocchi una storia che sta ancora avvenendo all'interno di se stesso ma per il momento non pare proprio che ci si possano aspettare imprevisti il due di denari con svelta efficacia grafica sta a indicare uno scambio un baratto un doubt des e siccome la contropartita di questo scambio non può essere che l'anima del nostro commensale c'è agevole riconoscere un ingenuo allegoria nella fluida apparizione arlata dell'arcano la temperanza e se il traffico d'anime che preme all'osco fattucchiere non restano dubbi sulla sua identità di diavolo con l'aiuto di mefistofale ogni desiderio di faust è subito soddisfatto o meglio per dire le cose come stanno fausto ottiene l'equivalente in oro di ciò che desidera e non sei contento credevo che la ricchezza fosse il diverso il molteplice il mutevole e non vedo che pezzi di metallo uniforme che vanno e vengono e si accumulano e non servono ad altro che a moltiplicare se stessi sempre uguali tutto quello che le sue mani toccano si trasforma in oro dunque la storia del dottor faust si confonde anche con quella del remida nella carta dell'asso di denari che rappresenta il globo terraqueo diventato una sfera d'oro massiccio inaridita nella sua astrazione di moneta incommestibile e invivibile già ti penti d'aver firmato il patto col diavolo no lo sbaglio è stato barattare una sola anima contro un solo metallo solo se faust si compromette con molti diavoli alla volta salverà la sua anima plurale troverà pagliuzze d'oro e in fondo alla materia plastica vedrà venere rinascere continuamente sulle rive di cipro dissipando le macchie di nafta la schiuma di tedersivo l'arcano numero 17 che può concludere la storia del dottore in alchimismo oppure cominciare la storia dell'avventuroso campione illustrandone la nascita alla bella stella figlio di padre ignoto e di regina spodestata e raminga parsifal si porta dietro il mistero delle origini per impedirgli di saperne di più la madre che doveva avere i suoi buoni motivi gli ha insegnato a non fare mai domande e l'ha allevato in solitudine esentandolo dal duro tirocinio della cavalleria ma anche in quelle ispide brughiere erano i cavalieri erranti e il ragazzo senza nulla domandare si intruppa con loro impugna le armi monta in sella e calpesta sotto gli zoccoli del cavallo la madre troppo a lungo protettiva figlio di connubio colpevole matricida senza saperlo presto coinvolto in un amore ugualmente proibito parsifal corre il mondo leggero in perfetta innocenza ignorante di tutto ciò che si deve imparare per stare al mondo si comporta secondo le regole cavalleresche perché così gli viene fatto esplendente dichiara ignoranza attraversa contrade gravati da un'oscura consapevolezza terre desolate se stendono nel tarocco della luna in riva un lago d'acque morte c'è un castello sulla cui torre si è battuta una maledizione vi soggiorna anfortas il re pescatore che qui vediamo vecchio e magagnato palparsi una piaga che non si rimargina finché quella piaga non guarirà non tornerà a muoversi la ruota delle trasformazioni che passa dalla luce del sole al verde delle foglie e all'allegria delle feste dell'equinozio di primavera forse il peccato del re anfortas è un sapere ingorgato una scienza intrisita conservata forse in fondo al recipiente che parsifal vede portare in processione per le scale del castello e vorrebbe sapere cos'è eppure tace la forza di parsifal ed essere così nuovo al mondo e così occupato dal fatto d'essere al mondo che non gli viene mai in mente di far domande su ciò che vede eppure basterebbe una sua domanda una prima domanda che scateni la domanda di tutto ciò che al mondo non ha mai domandato nulla ed ecco il deposito dei secoli aggrumato in fondo ai vasi degli scavi si scioglie le ere schiacciate tra gli strati tellurici riprendono a scorrere il futuro recupera il passato il polline delle stagioni d'abbondanza sepolto da millenni nelle torbiere riprende a volare salsa sulla polvere degli anni di siccità non so da quanto tempo ore o anni faust e parsifal sono intenti a rintracciare i loro itinerari tarocco dopo tarocco sul tavolo della taverna ma ogni volta che si chinano sulle carte la loro storia si legge in un altro modo subisce correzioni varianti risente degli umori della giornata del corso dei pensieri oscilla tra due poli il tutto e il nulla il mondo non esiste faust conclude quando il pendolo raggiunge l'altro estremo non c'è un tutto dato tutto in una volta c'è un numero finito d'elementi le cui combinazioni si moltiplicano a miliardi di miliardi e di queste solo poche trovano una forma e un senso e si impongono in mezzo a un pulviscolo senza senso e senza forma come le 78 carte del mazzo di tarocchi nei cui accostamenti appaiono sequenze di storie che subito si disfano mentre questa sarebbe la conclusione sempre provvisoria di parsifal il nocciolo del mondo è vuoto il principio di ciò che si muove nell'universo è lo spazio del niente attorno all'assenza si costruisce ciò che c'è in fondo al graal c'è il tao e indica il rettangolo vuoto circondato dai tarocchi anch'io cerco di dire la mia apro la bocca cerco d'articolare parola mugolo sarebbe il momento di dire la mia è chiaro che le carte di questi due sono pure quelle della mia storia la storia che mi ha portato fin qui una serie di brutti incontri che forse solo una serie di incontri mancati per cominciare devo richiamare l'attenzione sulla carta detta del re di bastoni in cui si vede seduto un personaggio che se nessun altro lo reclama potrei bene essere io tanto più che regge un arnese è puntuto con la punta in giù come io sto facendo in questo momento e difatti questo arnese a guardarlo bene somiglia a uno stilo o calamaio o matita ben temperata o penna a sfera e se appare di grandezza sproporzionata sarà per significare l'importanza che il detto arnese scrittoio ha nell'esistenza del detto personaggio sedentario per quel che so è proprio il filo nero che esce da quella punta di scettro da poche lire la strada che mi ha portato fin qui e non è escluso dunque che il re di bastoni sia l'appellativo che mi spetta e in tal caso il termine bastoni vada inteso nel senso delle aste che fanno i bambini a scuola primo balbettio di chi prova a comunicare tracciando dei segni o nel senso di legni di pioppo da cui si impasta la bianca cellulosa e se ne sfogliano risme di pagine pronte per essere e ancora significati si incrociano vercate il due di denari anche per me è un segno di scambio di quello scambio che in ogni segno dal primo girigoro tracciato in modo da distinguersi dagli altri girigori del primo scrivente il segno di scrittura imparentato con gli scambi d'altra roba non per niente inventato dai finici coinvolto nella circolazione del circolante come le monete d'oro la lettera che non va presa alla lettera la lettera che trasvaluta i valori che senza lettera non valgono niente la lettera sempre pronta a crescere su se stessa e a ornarsi dei fiori del sublime vedi la qui storiata e fiorita sulla sua superficie significante la lettera elemento primo delle belle lettere pur sempre avvolgendo nelle sue spire significanti il circolante del significato la lettera esse che serpeggia per significare che lì pronta a significare significati il segno significante che ha la forma di un esse perché i suoi significati prendono forma di esse pure loro e tutte quelle coppe non sono altro che calamai prosciugati aspettando che nel buio dell'inchiostro vengano a galla i demoni e le potenze infere i baobau gli inni alla notte i fiori del male i cuori della tenebra oppure vi plani l'angelo melanconico che distilla gli uomini dell'anima e travasa stati di grazia e epifanie invece niente il fante di coppe mi ritrae mentre mi chino a scrutare dentro l'involucro di me stesso e non ho l'aria soddisfatta ho un bel scuotere e premere l'anima è un calamaio asciutto quale diavolo vorrà prenderla in pagamento per assicurarmi la riuscita dell'opera il diavolo dovrebbe essere la carta che nel mio mestiere si incontra più sovente la materia prima dello scrivere non è tutto un risalire alla superficie di grinfe pelose azzannamenti cagneschi cornate caprine violenze impedite che annaspano nel buio ma la cosa può essere vista in due modi che questo brulicare demoniaco all'interno delle persone singole e plurali nelle cose fatte o credute di fare nelle parole dette o credute di dire sia un modo di fare e di dire che non sta bene e convenga ricacciare tutto giù oppure sia invece ciò che più conta e visto che c'è sia consigliabile farlo venire fuori due modi di vedere la cosa poi a loro volta variamente mescolati perché potrebbe essere che il negativo per esempio sia negativo ma necessario perché senza di quello il positivo non è positivo oppure che non sia negativo affatto mentre il solo negativo casomai è quello che si crede positivo in questo caso all'uomo che scrive non resta che un modello impareggiabile cui tendere il marchese tanto diabolico da essere detto divino che ha spinto la parola a esplorare i confini neri del pensabile e la storia che dovremmo cercare di leggere in questi tarocchi sarà quella di due sorelle che potrebbero essere la regina di coppe e la regina di spade una angelica e l'altra perversa nel convento dove la prima ha preso il velo appena lei si volta un'eremita la butta sotto e approfitta delle sue grazie alle sue spalle a lei che se ne lagna la papessa o badessa dice tu non conosci il mondo giustina il potere del denaro e della spada gode soprattutto a rendere cose gli altri esseri umani la varità dei piaceri non ha limiti come le combinazioni dei riflessi condizionati tutto sta a decidere chi condiziona riflessi tua sorella giulietta può iniziarti a promiscui segreti dell'amore da lei potrai imparare che c'è chi gode a far girare la ruota dei supplizi e chi a stare appeso per i piedi tutto questo è come un sogno che la parola porta in sé e che passando attraverso chi scrive si libera o lo libera nella scrittura ciò che parla è irrepresso e allora il papa dalla barba bianca potrebbe essere il gran pastore d'anime interprete di ogni sigismondo o vimbodona e per averne conferma non c'è che verificare se da qualche parte del quadrato dei tarocchi si riesce a leggere la storia che a quanto insegna la sua dottrina si nasconde nell'ordito di tutte le storie si prenda un giovane fante di denari che vuole allontanare da sé una nera profezia parricidio e nozze con la propria madre lo si faccia partire all'avventura su un carro riccamente addobbato il due di bastoni segnala un crocicchio sulla polverosa strada maestra anzi è il crocicchio e chi c'è stato può riconoscere il posto in cui la strada che viene da corinto incrocia quella che va a tebe l'asso di bastoni testimonia una rissa da strada anzi da trivio quando due carri non vogliono darsi il passo e restano coi mozzi delle ruote incastrati e i conducenti saltano a terra imbesteliti e polverosi sbraitando appunto come carrettieri insultandosi dandosi del maiale della vacca al padre alla madre dell'altro e se uno tira fuori dalla tasca un'arma da taglio è facile che ci scappi il morto difatti qui c'è l'asso di spade c'è il matto c'è la morte e lo sconosciuto quello proveniente da tebe che è rimasto in terra così impara a controllare i suoi nervi tu ed ipo non l'hai fatto apposta lo sappiamo è stato raptus ma intanto ti ci è ributtato addosso a mano armata come se non avessi aspettato altro per tutta la tua vita tra le carte che vengono dopo c'è la ruota della fortuna o sfinge c'è l'ingresso in tebe come un imperatore trionfante c'è le coppe del banchetto di nozze con la regina giocasta che vediamo qui ritratta come regina di denari in panni vedovili donna desiderabile benché matura ma la profezia si compie la peste in festa tebe una nuvola di bacilli cala sulla città in onda di miasmi le vie e le case i corpi danno fuori buboni rossi e blu e cascano stecchiti per le strade lambendo l'acqua delle pozzangre fancose con le labbra secche in questi casi non c'è che ricorrere alla sibilla delfica che spieghi quali leggi o tabù sono stati violati la vecchia con la tiara il libro aperto etichettata con lo strano epiteto di papessa e lei se si vuole nell'arcano detto del giudizio o dell'angelo si può riconoscere la scena primaria a cui rimanda la dottrina sigismondiana dei sogni il tenero angioletto che si sveglia nottetempo e tra le nuvole del sonno vede i grandi che non si sa cosa stanno facendo tutti nudi e in posizioni incomprensibili mamma e papà e altri invitati nel sogno parla il fato non ci resta che prenderne atto edipo che non ne sapeva niente si strappa il lume degli occhi letteralmente il tarocco dell'eremita lo rappresenta mentre si toglie dagli occhi un lume e prende la via di colono col mantello e il bastone del pellegrino di tutto questo la scrittura avverte come l'oracolo e purifica come la tragedia insomma non c'è da farsene un problema la scrittura insomma un sottosuolo che appartiene alla specie o almeno alla civiltà o almeno a certe categorie di reddito e io è quel tanto quel poco disquisitamente mio personale che credevo di metterci se l'ombra di un autore posso evocare ad accompagnare i miei passi diffidenti nei territori del destino individuale dell'io del come ora dicono vissuto dovrebbe essere quella dell'egoista di grenoble del provinciale alla conquista del mondo che una volta leggevo come se aspettassi da lui la storia che dovevo scrivere o vivere c'era una confusione tra i due verbi lui o nel media allora quale di queste carte mi indicherebbe se rispondesse ancora al mio appello le carte del romanzo che non ho scritto con l'amore tutta l'energia che mette in moto le trepidazioni gli imbrogli il carro trionfante dell'ambizione il mondo che ti viene incontro la bellezza promessa di felicità ma qui io vedo solo stampi di scene che si ripetono uguali il tran tran della carretta di tutti i giorni la bellezza come la fotografano i rotocalchi era questa la ricetta che aspettavo da lui per il romanzo per qualcosa oscuramente imparentata col romanzo la vita cos'è che teneva insieme tutto questo e se ne è andato scarta un tarocco scarta l'altro mi ritrovo con poche carte in mano il cavaliere di spade l'eremita il bagatto sono sempre io come di volta in volta mi sono immaginato d'essere mentre continuo a star seduto menando la penna su e giù per il foglio per sentieri d'inchiostro si allontana al galoppo lo slancio guerriero della giovinezza l'ansia esistenziale l'energia dell'avventura spesi in una carneficina di cancellature e fogli appallottolati e nella carta che segue mi ritrovo nei panni di un vecchio monaco segregato da anni nella sua cella topo di biblioteca che per lustra al lume di lanterna una sapienza dimenticata tra le note a piedi pagina e i rimandi degli indici analitici forse è arrivato il momento d'ammettere che il tarocco numero uno è il solo che rappresenta onestamente quello che sono riuscito a essere un giocoliere o illusionista che dispone sul suo banco da fiera un certo numero di figure e spostandole connettendole scambiandole ottiene un certo numero d'effetti il gioco di prestigio che consenta nel mettere dei tarocchi in fila e farne uscire delle storie potrei farlo anche coi quadri dei musei mettere per esempio un san girolamo al posto dell'eremita un san giorgio al posto del cavaliere di spade e vedere cosa viene sono vedi il caso tra gli oggetti della pittura che più mi hanno attratto nei musei mi fermo sempre volentieri davanti ai san girolami i pittori rappresentano l'eremita come uno studioso che consulta trattati all'aria aperta seduto all'imboccatura di una grotta poco più in là è accucciato un leone domestico tranquillo perché il leone la parola scritta ammanzisce le passioni o sottomette le forze della natura o trova un'armonia con la disumanità dell'universo o cova una violenza trattenuta ma sempre pronta ad avventarsi a sbranare lo spieghi come si vuole è piaciuto ai pittori che san girolamo abbia con sé un leone prendendo per buona la storiella della spina nella zampa grazie al solito qui pro quodun copista e così a me da soddisfazione e sicurezza vederli insieme cercare di riconoscermici non specialmente nel santo e nemmeno nel leone che del resto spesso si assomigliano ma nei due insieme nell'insieme nel quadro figure oggetti paesaggio nel paesaggio gli oggetti da leggere dello scrivere si posano tra le rocce le erbe le lucertole diventano prodotti strumenti della continuità minerale vegetale animale tra le suppellettili dell'eremita c'è anche un teschio la parola scritta tiene sempre presente la cancellatura della persona che ha scritto o di quella che leggerà la natura inarticolata ingloba nel suo discorso il discorso umano ma si noti che non siamo nel deserto nella giungla nell'isola di robinson la città è lì a due passi i quadri degli eremiti quasi sempre hanno una città sullo sfondo una stampa è occupata tutta dalla città bassa piramide intagliata da torri quadrate e tetti aguzzi il santo appiattito su un dosso in primo piano le volta le spalle e non stacca gli occhi dal libro di sotto al cappuccio monacale nella punta secca di rembrandt la città alta sovrasta il leone che gira il muso intorno è il santo in basso che legge beato all'ombra d'un noce sotto un cappello allarghetese alla sera gli eremiti vedono accendersi le luci alle finestre il vento porta a ondate la musica delle feste in un quarto d'ora volessero sarebbero di ritorno tra la gente la forza dell'eremita si misura non da quanto lontano è andato a stare ma dalla poca distanza che gli basta per staccarsi dalla città senza mai perderla di vista oppure il solitario scrittore raffigurato nel suo studio dove un san girolamo se non fosse per il leone si confonde facilmente con un sant'agostino il mestiere dello scrivere uniforma le vite individuali un uomo allo scrittoio assomiglia ad ogni altro uomo allo scrittoio ma non solo il leone altri animali visitano la solitudine dello studioso discreti messaggeri del fuori un pavone in antonello da vessina a londra un lupacchiotto altra incisione un cagnolino maltese in carpaccio a venezia in questi quadri d'interno ciò che conta è come un certo numero d'oggetti ben distinti si dispongono in un certo spazio e lasciano scorrere la luce e il tempo sulla loro superficie volumi rilegati rotoli di pergamena clessidre astrolabi conchiglie la sfera appesa al soffitto che mostra come ruotano i cieli oppure una zucca la figura del san girolamo sant'agostino può star seduta nel bel mezzo della tela come in antonello ma sappiamo che il ritratto congloba il catalogo degli oggetti e lo spazio della stanza riproduce lo spazio della mente l'ideale enciclopedico dell'intelletto il suo ordine le sue classificazioni la sua calma o la sua inquietudine sant'agostino in botticelli agli uffizi comincia a innervosirsi a pallotto la fogli dopo fogli e li butta per terra sotto il tavolo anche nello studio dove regna la serenità assorta la concentrazione l'agio sto sempre guardando il carpaccio passa una corrente d'alta tensione i libri lasciati in giro aperti voltano le pagine da soli oscilla la sfera appesa la luce della finestra entra obliqua il cane leva il muso dentro lo spazio interiore cova un annuncio di terremoto l'armoniosa geometria intellettuale sfiora al limite l'ossessione paranoica oppure sono i vuoti del fuori che fanno tremare le finestre come solo la città da un senso all'ispido paesaggio dell'eremita così lo studio col suo silenzio il suo ordine non è altro che il luogo dove si registrano le oscillazioni dei sismografi da anni ormai sto qui rinchiuso rimorginando mille ragioni per non mettere il naso fuori e non trovandone una che mi metta l'anima in pace forse mi viene da rimpiangere modi più estroversi di esprimere me stesso c'è stato pure un tempo in cui girando nei musei mi fermava a confrontare e interrogare i san giorgi e i loro draghi i quadri di san giorgio hanno questa virtù fanno capire che il pittore era contento d'avere da dipingere un quadro di san giorgio perché san giorgio lo si dipinge senza crederci troppo credendo solo la pittura e non al tema della condizione instabile di san giorgio come santo di leggenda troppo simile al perseo del mito come eroe del mito troppo simile al fratello minore della fiaba sembra che i pittori siano sempre stati consapevoli così da guardarlo sempre con un po di occhio primitivo ma nello stesso tempo credendoci nel modo che hanno i pittori gli scrittori di credere a una storia che è passata per tante forme per il fatto di dipingerla e ridipingerla di scriverla e riscriverla se non era vera lo diventa anche nei quadri di pittori san giorgio ha sempre una faccia impersonale non diversamente dal cavaliere di spade delle carte e la sua lotta col drago è una figura su uno stemma inchiodata fuori dal tempo sia che lo si veda al galoppo a lancia in resta come in carpaccio caricare dalla sua metà della tela e il drago che s'avventa nell'altra metà a darci dentro con un'espressione concentrata a testa bassa da ciclista intorno nei dettagli c'è un calendario di cadaveri le cui fasi di decomposizione ricompongono lo svolgersi temporale del racconto sia che cavallo e drago si sovrappongano come in un monogramma come nel raffaello del louvre e san giorgio lavori di lancia dall'alto al basso della gola del mostro operando con angelica chirurgia qui il resto del racconto si condensa in una lancia spezzata in terra e in una vergine blandamente sbigottita oppure che nella sequenza principessa drago san giorgio la bestia un dinosauro si presenti come l'elemento centrale paolo uccello a londra a parigi o invece san giorgio separi il drago là in fondo dalla principessa in primo piano tintoretto a londra in ogni caso san giorgio compie la sua impresa davanti ai nostri occhi sempre chiuso nella sua corazza senza rivelarci nulla di sé la psicologia non fa per l'uomo comodazione casomai potremmo dire che la psicologia è tutta dalla parte del drago coi suoi rabbiosi contorcimenti il nemico il mostro il vinto hanno un pathos che l'eroe vincitore non si sogna di avere o si guarda bene dal mostrare di qui a dire che il drago è la psicologia il passo è breve anzi è la psiche è il fondo oscuro di se stesso che san giorgio affronta un nemico che già ha fatto strazio di molti giovani e giovinette un nemico interno che diventa oggetto di estranità e secranda è la storia di un'energia proiettata nel mondo o il diario di una introversione altri dipinti rappresentano la fase successiva il drago steso al suolo è una macchia sul terreno un involucro sgonfio e vi si celebra la riconciliazione con la natura che cresce alberi e rocce a occupare tutto il quadro relegando in un angolo le figurine del guerriero e del mostro al dofter a monaco giorgione a londra oppure è la festa della società rigenerata intorno all'eroe e alla principessa pisanello a verona e carpaccio nelle tele seguenti del ciclo agli schiavoni sottointeso patetico l'eroe essendo un santo non vi saranno nozze ma battesimo san giorgio conduce al guinzaglio il drago nella piazza per metterlo a morte in una pubblica cerimonia ma in tutta questa festa della città liberata dell'incubo non c'è nessuno che sorrida tutti i volti sono gravi suonano le trombe i tamburi è un'esecuzione capitale che siamo venuti ad assistere la spada di san giorgio è sospesa in aria stiamo tutti col fiato sospeso sul punto di comprendere che il drago non è solo il nemico il diverso l'altro ma siamo noi è una parte di noi stessi che dobbiamo giudicare lungo le pareti degli schiavoni a venezia le storie di san giorgio e di san girolamo continuano l'una di seguito all'altra come fossero una storia sola e forse sono davvero una sola storia la vita d'uno stesso uomo giovinezza maturità vecchiaia e morte non ho che da trovare la traccia che unisca l'impresa cavalleresca alla conquista della saggezza ma se proprio adesso adesso ero riuscito a rovesciare il san girolamo verso fuori e il san giorgio verso il dentro riflettiamo a ben guardare l'elemento comune delle due storie è nel rapporto con un animale feroce drago nemico o leone amico il drago incombe sulla città il leone sulla solitudine possiamo considerarlo un solo animale la bestia feroce che incontriamo tanto fuori quanto dentro di noi in pubblico in privato c'è un modo colpevole di abitare la città accettare le condizioni della bestia feroce dando gli impasto ai nostri figli c'è un modo colpevole d'abitare la solitudine credersi tranquillo perché la bestia feroce è resa inoffensiva da una spina nella zampa l'eroe della storia è colui che nella città punta la lancia nella gola del drago e nella solitudine tiene con sé il leone nel pieno delle sue forze accettandolo come custode e genio domestico ma senza nascondersi la sua natura di belva dunque sono riuscito a concludere posso ritenermi soddisfatto ma non sarò stato troppo edificante rileggo strappo tutto vediamo la prima cosa da dire è che quella del san giorgio san girolamo non è una storia con un prima e un dopo siamo al centro di una stanza con figure che si offrono alla vista tutte e due insieme il personaggio in questione o riesce a essere il guerriero e il savio in ogni cosa che fa e pensa o non sarà nessuno e la stessa belva e nello stesso tempo drago nemico nella carneficina quotidiana della città e leone custode dello spazio dei pensieri e non si lascia fronteggiare se non nelle due forme insieme così ho messo tutto a posto sulla pagina almeno dentro di me tutto resta come prima tre storie di follia e distruzione ora che abbiamo visto questi pezzi di cartone bisunti diventare museo di quadri di maestri teatro di tragedie biblioteca di poemi e di romanzi il rimurginare muto di parole terra terra che per tenere dietro alle figure arcane delle carte era obbligato a sollevarsi via via potrà provare a volare più in alto a sbatacchiare ali di parole più pennute magari orecchiate da un loggione quando a loro risuonare le quinte tarlate di un palcoscenico scricchiolante si trasformano in regge e campi di battaglia difatti i tre che si mettevano a litigare adesso lo facevano con gesti solenni come declamassero e se puntavano tutti e tre un dito sulla stessa carta con l'altra mano e cosmorfia evocatrici sadopravano per significare che quelle figure erano da intendere così e non cosa ecco ora nella carta il cui nome varia a seconda degli usi e degli idiomi torre casa di dio casa del diavolo un giovane che porta la spada si direbbe per grattarsi la testa sotto la fluente capigliatura bionda e adesso bianca riconosce gli spalti del castello del del sinore quando il buio della notte è attraversato da un'apparizione che tramortisce di terrore le sentinelle l'avanzare maestoso di uno spettro somigliante nella barba brizzolata e nell'elbo e corazza splendenti tanto all'imperatore di tarocchi quanto al defunto re di danimarca è ritornato a chiedere giustizia in tale interrogabile forma le carte si presentano alle mute domande del giovane perché le pesanti fauci del tuo sepolcro si sono riaperte e il tuo cadavere torna a indossare indumenti d'acciaio e rivisita il nostro mondo sublunare o ripilando i raggi della luna lo interrompe una dama dallo sguardo esagitato pretendendo di riconoscere in quella stessa torre il castello di dunsinane quando si scatenerà la vendetta che le streghe hanno oscuramente annunciato la foresta di birnam si muoverà risalendo le pendici della collina schiere e schiere d'alberi verranno avanti sulle radici arrancate fuori dalla terra protendendo i rami come nei dieci di bastoni all'assalto della fortezza e l'usurpatore apprenderà che makdalf nato da un taglio di spada e colui che con un taglio di spada gli taglierà la testa e così come trova un senso alla sinistra congiunzione di carte papessa o fattucchiera profetante luna o notte in cui tre volte miagola il gatto tigrato e grugnisce il porcospino e scorpioni rospi vipere si lasciano acchiappare per il brodo ruota o rimestio del gorgogliante calderone in cui si disfano mummie di maliarda fiele di capra pelo di pipistrello cervella di feto trippe di puzzola code di scimmie scacazzanti allo stesso modo i segni più insensati che le streghe impastano nel loro intruglio un senso che li confermi presto o tardi finiscono per trovarlo anche loro e ti riducono te e la tua logica in poltiglia ma sull'arcano della torre e del fulmine punta anche il dito tremante d'un vegliardo che nell'altra mano solleva la figura del re di coppe certo per farsi riconoscere dato che nessuno degli attributi regali resta sulla sua persona dell'elitta nulla al mondo gli hanno lasciato le sue due figlie snaturate questo sembra dire indicando due ritratti di crudeli dame coronate e poi il paesaggio squallido della luna e adesso gli si vuole usurpare anche questa carta la prova di come egli è stato cacciato dalla sua reggia rovesciato fuori dalle mura come un bidone d'immondizia abbandonato alla furia degli elementi ora egli abitava la bufera e la pioggia il vento come se altra casa non potesse avere come se non fosse ammissibile che il mondo ancora contenesse altro che grandine e tuoni e tempesta e così come la sua mente ormai albergava solo vento e fulmini e follia soffiate venti fino a creparvi le guance cateratte uragani traboccate sormeggete i campanili ad annegare i galli marcavento lampi sulfurei più rapidi del pensiero staffette del fulmine che spacca le querce strinate i miei capelli bianchi e tu tuono scuoti la sfera del mondo schiaccia lo spessore del globo in uno spiattellato planisfero rompi gli stampi della natura sparpaglia i cromosomi che perpetuano l'ingrata essenza del genere umano questo uragano di pensieri leggiamo negli occhi del vecchio sovrano seduto in mezzo a noi le curve spalle rincantucciate non più nel manto d'ermellino ma in un saio da eremita come se ancora stesse vagando a lume di lanterna per la landa senza riparo col matto per unico sostegno e specchio della sua follia invece per il giovane di prima il matto altro non è che la parte che egli stesso si è imposto per meglio studiare un piano di vendetta e nascondere l'animo sconvolto della rivelazione delle colpe della madre gertrude e dello zio se la sua è nevrosi in ogni nevrosi c'è del metodo e in ogni metodo nevrosi ben lo sappiamo noi inchiodati a questo gioco di tarocchi era la storia dei rapporti tra i giovani e i vecchi che ci veniva a raccontare amleto più si sente fragile di fronte all'autorità degli anziani più la giovinezza è spinta a farsi un'idea di sé estrema ed assoluta e più resta dominata dall'incompere dei fantasmi parentali non minore turbamento provocano i giovani negli anziani incombono come fantasmi s'aggirano a testa bassa masticando rancori riportando a galle rimorsi che gli anziani avevano seppellito disprezzando ciò che gli anziani credono d'avere di meglio l'esperienza dunque faccia il matto amleto con le calze ciondoloni a un libro aperto sotto il naso le età di passaggio vanno soggetti a disturbi della mente del resto sua madre l'ha sorpreso l'amoroso a delirare per ofelia la diagnosi è presto fatta chiamiamo la follia d'amore così tutto si spiega chi ci andrà di mezzo casomai sarà ofelia povero angelo l'arcano che la contrassegna e la temperanza e già prevede la sua fine acquatica ecco il bagatto annuncia che una compagnia di saltimbanchi o attori girovaghi è arrivata dal spettacolo a corte è un'occasione per mettere i rei di fronte alle loro colpe il dramma rappresenta un'imperatrice adultera e assassina vi si riconosce gertrude claudio scappa turbato da questo momento amleto sa che lo zio lo spia da dietro le tende basterebbe un buon colpo di spada contro un drappeggio che si muove e il re cadrebbe stecchito un topo un topo scommetto che lo stendo morto ma che l'ha nascosto non c'era il re ma come rivela la carta detta all'eremita il vecchio polonio inchiodato per sempre nell'atto di origliare povero spione che poca luce seppe fare nessun colpo ti riesce amleto non hai placato l'ombra di tuo padre hai resa orfana la fanciulla chiamavi alle astratte speculazioni della mente ti destinava il tuo carattere non per nulla il fante di denari ti ritrae assorto nella contemplazione di un disegno circolare forse il mandala diagramma di un'armonia oltraterrena anche la nostra meno competitiva convitata altrimenti detta regina di spade o lady macbeth alla vista della carta dell'eremita sembra sconvolta forse vi vede una nuova apparizione spettrale l'ombra incappucciata di banquo morto sgozzato che avanza a stento per i corridoi del castello si siede non invitato al posto d'onore del banchetto sgocciola i cernecchi insanguinati nella minestra oppure vi riconosce suo marito in persona macbeth che ha ucciso il sonno al lume di lanterna nottetempo visita le stanze degli ospiti esitante come una zanzara cui dispiace di macchiare le federe mani di sangue e cuore pallido lo aizza e istiga la moglie ma ciò non significa che lei sia tanto peggio di lui si sono divisi le parti da buoni sposi il matrimonio è l'incontro di due egoismi che si stritolano a vicenda e da cui si propagano le crepe nelle fondamenta del consorzio civile i pilastri del bene pubblico si reggono sui gusci di vipera della barbarie privata eppure abbiamo visto che nell'eremita ben più verosimilmente re lear ha riconosciuto se stesso che ramingo e matto va in cerca dell'angelica cordelia ecco la temperanza è un'altra carta perduta e per sola sua colpa questa la figlia da lui incompresa e ingiustamente scacciata per dar retta alle mendance per figlia di regana e gonerilla con le figlie qualsiasi cosa faccia un padre sbaglia autoritario permissivi che siano ai genitori nessuno dirà mai grazie le generazioni si guardano torve si parlano solo per non capirsi per darsi a vicenda la colpa di crescere infelici e di morire delusi dove finita cordelia forse senza più asilo né panni per coprirsi si è rifugiata in queste lande deserte e beve l'acqua dei fossi e come a maria egiziaca gli uccelli le portano chicchi di miglio per nutrirsi questo può dunque essere il senso dell'arcano la stella in cui Lady Macbeth invece riconosce se stessa sonnambula che salsa di notte senza vesti e occhi chiusi contempla macchie di sangue sulle sue mani e s'affanna in inutili lavacri ci vuole altro l'odore del sangue non va via per detergere quelle piccole mani non bastano tutti i profumi da rabbia a una tale interpretazione soppone al mleto che nel suo racconto è arrivato al punto in cui l'arcano il mondo ofelia esce di senno cinguetta non sensi e filastrocche vaga per i prati cinta di ghirlande ranuncoli ortiche margheritine e quei fiori della forma allungata cui i pastori sboccati danno un nome grossolano ma che le nostre pudiche fanciulle chiamano membro di defunto e per continuare la storia bisogno proprio di quella carta dell'arcano numero 17 in cui si vede ofelia sulla riva d'un ruscello protesa sulla corrente vitrea e mucillagginosa che tra un istante l'affogherà tingendo di verde muffa i suoi capelli nascosto tra le tombe del cimitero amleto pensa alla morte sollevando il teschio smascellato di yoric il buffone e questo allora l'oggetto tondeggiante che il fante di denari regge in mano dove il matto di professione è morto la follia di distruzione che trova in lui lo sfogo e specchio secondo codici rituali si mescola al linguaggio e agli altri atti dei principi e dei sudditi indifesi anche verso se stessi amleto già sa che per tutto dove mette mano accumula malestri credono che lui non sia capace di uccidere ma se è la sola cosa che gli riesce il guaio è che colpisce sempre bersagli sbagliati quando si ammazza si ammazza sempre qualcun altro due spade si incrociano in un duello sembrano uguali ma una è aguzza e l'altra ottusa l'una è avvelenata e l'altra è asettica comunque vada sono sempre i giovani a scannarsi per primi la aerte amleto che una miglior sorte avrebbe visto cognati e non vittime carnefici a vicenda nella coppa re claudio ha gettato una perla che una pastiglia di veleno per il nipote no gertrude non bere ma la regina ha sete troppo tardi troppo tardi la spada di amleto trafigge il re sta già finendo il quinto atto per tutte e tre le tragedie l'avanzare del carro di guerra di un re vincitore segna il calare del sipario forte braccio di norvegia sbarca sulla pallida isola del baltico la regia è silenziosa il condottiero entra tra i marmi ma è un obitorio ecco stecchita tutta quanta la famiglia reale di danimarca o morte altera e snob per invitarli a quale festa di gala nelle tue spelonche senza uscita hai fatto fuori tanti altolocati personaggi in un solo colpo sfogliandola al manacco di gota con la tua falce tagliacarte no non è forte braccio è il re di francia sposo a cordelia che ha attraversato la manica in soccorso all'ear e stringe da vicino l'armata del bastardo di glockster conteso tra le due regine rivali e perverse ma non farà in tempo a liberare dalla gabbia il re folle e la figlia chiusi lì a cantare come uccelli e a ridere alle farfalle è la prima volta che un po di pace regna in famiglia basterebbe che il sicario ritardasse qualche minuto invece arriva puntuale strozza cordelia ed è strozzato da lì al che grida perché mai un cavallo un cane un topo hanno la vita e cordelia non respira e a kent al fedele kent non resta altro augurio da fargli che spezzati cuore ti scongiuro spezzati a meno che si tratti del re non di norvegia e non di francia ma di scozia il legittimo erede del trono usurpato da macbeth e il suo carro avanzi alla testa dell'esercito inglese e finalmente macbeth sia costretto a dire sono stanco che il sole resti in cielo non vedo l'ora che si sfasci la sintassi del mondo che si mescolino le carte del gioco i fogli dell'infolio i frantumi di specchio del disastro non vedo l'ora che si sfasci la sintassi del mondo che si sfasci la sintassi